Allora questa sera puntata lunga di Nonda, aperta da un ospite di eccezione. Non lo vedete spesso in televisione, è impegnato in una nuova impresa ed è l'uomo migliore per aiutarci a capire come si fa a sbloccare il sistema Italia dopo la più grande e terribile crisi che abbiamo mai attraversato in questi anni. Ed è l'ingegnere Carlo De Benedetti, uno dei primi ospiti di questa nostra lunga serata. E poi ovviamente torneremo sui numeri del Covid, lo faremo con il ministro Speranza e parleremo della nuova Lega di Matteo Salvini, lo faremo con un altro ospite di eccezione collegato da Parigi, il filosofo Bernard-Henri Lévy che si confronterà con Furio Colombo. E poi ancora tanti altri ospiti, ovviamente... L'assessore Gallera, Francesca Nava, Stefano Giurlo... E ovviamente con un occhio a tutto quello che sta avvenendo in queste ultime ore a Beirut. E poi un grande intellettuale europeo accompagnato da due grandi giornalisti. Ma non vi diciamo nulla di più, restate inchiodati come sempre. A tra poco. Martedì 4 agosto, buonasera al pubblico di Inonda. Come avete sentito poco fa dal nostro telegiornale l'inferno di Beirut con le notizie che arrivano, poche per la verità. Ecco, alcune immagini cercheremo nel corso di questa lunga serata di collegarci anche con la nostra ambasciata a Beirut per capire qual è la situazione. Due forti esplosioni in zona Porto, almeno 10 morti, 100 feriti. Tra i feriti ci sarebbero anche due militari italiani. Ovviamente appena possibile ci collegheremo con Beirut per monitorare e capire davvero che cosa è accaduto. Ma apriamo questa nostra puntata con un ospite d'eccezione. Un ospite, come ricordava all'inizio Luca Telese, che spesso non si vede in televisione. Lo ringraziamo per essere con noi. Un protagonista assoluto dell'Italia economica, finanziaria e anche politica. Editore e ora al centro di una nuova scommessa editoriale. Con noi l'ingegnere De Benedetti. Buonasera, ingegnere, benvenuto. Buonasera. Buonasera. Buonasera, Parenzo. Allora, per aprire la nostra puntata, io direi andiamo intanto subito a ricordare quello che è stata la giornata di ieri con l'inaugurazione del Ponte Morandi. Si è parlato a lungo del modello Genova e prima di vedere il servizio della nostra girina che ci racconta esattamente di che cosa si tratta il modello Genova volevo però subito una prima valutazione da parte dell'ingegnere De Benedetti su questi ultimi mesi del Presidente Conte. E' difficile dare un giudizio in una situazione nella quale l'Italia e il mondo è stato sconvolto da una pandemia globale per cui siamo stati in emergenza in qualche modo per gli ultimi sei mesi per cui obiettivamente si può dire che il governo nella fase acuta della pandemia ha fatto certamente bene, ha fatto le cose che occorreva fare poi naturalmente col seno di poi si può sempre pensare che si sarebbe potuto fare qualcosa di più o di diverso però il giudizio su questi mesi di tragedia è un giudizio altamente positivo Allora, vediamo il servizio di Amaria Grazia Gerina tenendo presente che abbiamo una finestra aperta sul Libano continuano a arrivare notizie e temo che ne arriveranno molte per la serata una ve lo devo dare colpisce perché fra le vittime dell'esplosione c'è anche il segretario di un partito politico le cosiddette falangi libanesi e dunque questa esplosione ha ucciso Nijar Najjaran che era il leader di un partito nazionalista e cristiano maronita fra i feriti c'è anche un deputato chissà quanto dovremmo aggiornare questo computo insomma una pagina drammatica che stiamo seguendo in retta ma allora andiamo a vedere subito il servizio di Amaria Grazia Gerina perché ci aiuta a capire, a tirare un po' le sintesi questo ponte è il simbolo del rilancio italiano è una sorta di luce nel buio o forse un unicum che non si può ripetere il modello ponte raccontato da Amaria Grazia Gerina un paese civile e moderno come l'Italia non può permettersi di vedere fatti tragici come questo chi ha sbagliato deve pagare fino alla fine il governo Lega 5 Stelle era nato da appena 74 giorni la tragedia del ponte Morandi fu il primo drammatico banco di prova siccome per la prima volta c'è un governo in Italia che non ha preso soldi dai Benetton noi siamo pronti a revocare le concessioni c'è voluto meno tempo a costruire un nuovo ponte una nuova maggioranza che a venire a capo del pasticcio concessione due anni dopo il nuovo ponte c'è progettato da Renzo Piano costruito in tempi record Conte lo aveva promesso insieme a Salvini e a Di Maio lo ha inaugurato insieme alla ministra Paola De Micheli che ha preso il posto di Toninelli sacrificato sull'altare della nuova maggioranza ma ironia della storia scritta in questi due anni il nuovo ponte il governo Conte Bis è costretto a consegnarlo proprio nelle mani della società autostrade abbiamo cacciato i Benetton dalle autostrade il ridimensionamento dei Benetton con l'ingresso dello Stato in autostrade per l'Italia voluto da Conte e festeggiato anche dall'ala più intransigente del movimento è l'unica opera che resta per ora incompiuta nel giorno dell'inaugurazione del ponte San Giorgio come il patrono di Genova progettato e realizzato in 720 giorni il modello Genova è un modello che cercheremo di replicare è una luce che dà speranza all'Italia intera Italia modello Genova ma come si replica un modello in cui tutto è straordinario tempi, procedure, gestione commissariale per realizzare in due anni quei 1067 metri d'acciaio e cemento tutto ciò che è norma e quindi complessità è stato sospeso ma un conto è sospendere, un conto è riformare ciò che rende la realizzazione del ponte San Giorgio un'eccezione e non la regola Allora, tutti importanti gli interrogativi sollevati a questo servizio Renzo Piano, ieri lo avete sentito in un bellissimo discorso uno di quelli tenuti sul ponte ha detto siamo sospesi fra l'orgoglio e il cordoglio lei guardando questa cerimonia cosa ha pensato ingegnere? Ho pensato alle straordinarie capacità ingegneristiche e costruttive italiane e devo dire che veramente era una bellezza quella cerimonia anche nella sua pacatezza, nella sua completezza poi abbiamo avuto anche il colpo di fortuna dell'arcobaleno che comunque ha dato anche un segno di speranza celeste comunque mi è piaciuto tantissimo il discorso di Renzo Piano che mi ha proprio commosso Ma a suo avviso ingegnere esiste un modello Genova? Cioè il modello del ponte è replicabile in altri tanti casi italiani? Perché qualcuno ha detto attenzione lì si è fatto quasi tutto in deroga c'era il commissario che poi è il sindaco della città che avendo i pieni poteri è riuscito sostanzialmente a governare la situazione è a suo avviso un modello replicabile? No, io non penso che sia replicabile lì era veramente una situazione anche da un punto di vista umano per le 43 vittime e direi cittadino per il fatto che la città era stata spezzata in due e quindi non si poteva non fare quello che si è fatto si doveva fare quello che si è fatto che questo modello possa essere adottato per altre situazioni in Italia lo troverei anche sbagliato perché dovrebbe che le cose avvenissero con la normalità non con l'eccezionalità noi siamo sempre straordinari come italiani quando dobbiamo compiere delle imprese eccezionali ma sarebbe meglio che ci destrezzassimo meglio nelle imprese normali cioè nella normale manutenzione delle strade, dei ponti, dei diadotti di quelle cose di cui non bisogna accorgersi quando colla un ponte ma bisogna occuparsi professionalmente da parte delle autorità preposte e dalle società preposte Allora lei sa benissimo che è stato trovato un accordo per cui viene ridimensionata la partecipazione dei Benetton di Atlantia dentro autostrade si andrà verso un modello di public company lo abbiamo raccontato ieri cosa pensa di questa soluzione? Alcuni dicono che i Benetton sono stati puniti altri addirittura che non sono stati puniti abbastanza lei che idea si è fatto? Ma io mi sono fatto l'idea positiva del fatto che le autostrade tornino ad essere di proprietà pubblica perché è stato sbagliato privatizzare le autostrade e quindi è giusto questa soluzione Lo pensava anche prima della caduta? Assolutamente tutto dipenderà da... Assolutamente sì Ho sempre pensato Penso che l'aver trasformato Ponzano Veneto nella nuova IRI è stato un errore Questa è una bellissima definizione La nuova IRI sarebbe Ponzano Veneto che per come tutti sanno è la sede dove i Benetton hanno la loro casa madre Guarda, tutto quello che ha fruito sotto il controllo dei Benetton è praticamente un pezzo di IRI No, no, non c'è dubbio E allora a questo proposito prima di sentire il nostro Luca Sappino che è collegato da una festa della Lega dove Matteo Salvini terrà uno dei suoi comizi Ora lo vediamo inquadrato Però ancora per l'ingegnere De Benedetti Come vede lei questo ritorno dello Stato nell'economia? Abbiamo passato una fase in cui sostanzialmente il liberismo la faceva da padrone Anche a sinistra c'è stato in un certo senso una sorta di sbornia liberista qualcuno l'ha definita così Oggi ci scopriamo tutti un po' statalisti che è una parola che in Italia appunto ci fa ricordare addirittura la vecchia IRI Lei come vede questa fase? Cioè è dovuta al dramma del Covid? Sicuramente È inevitabile Accaderà in tutto il mondo un maggior intervento dello Stato nell'economia Non è una cosa da auspicarsi se sarà lo Stato a gestire e lo Stato non sa gestire né in Italia né altrove ma però è una cosa positiva se lo Stato avrà dei poteri per controllare la gestione La gestione sarà affidata a dei primati ma una maggiore presenza dello Stato dell'economia come ha detto lei dopo la grande ubriacatura liberista e globalista credo che sia inevitabile Certamente il Covid dà un contributo determinante I numeri dell'economia sono molto preoccupanti il calo del PIL è di proporzioni drammatiche rispetto al passato e soprattutto c'è già polemica su due dei principali strumenti di intervento che il governo si è dato per la politica economica uno riguarda l'impresa ed è il blocco dei licenziamenti l'altro è quasi collegato è la proroga della Cassa Integrazione ecco lei cosa pensa di queste due misure che sono molto contestate? ma io penso che la proroga della Cassa Integrazione fosse dovuta e inevitabile sul blocco dei licenziamenti ho le mie riserve ma non di tipo ideologico di tipo pratico cioè quando finisce poi il blocco a quel momento c'è uno scossone c'è si raddensano i problemi nel momento dello sblocco e siccome è evidente che il blocco non può essere in eterno e quindi c'è da gestire la fine del blocco e questo mi sembra di difficile gestione allora con il nostro Luca Sappino andiamo a vedere intanto che cosa sta accadendo in questo momento anche a Genova sapete a settembre ci saranno le elezioni regionali la Liguria è una di quelle regioni il nostro Sappino sta seguendo il tour di Matteo Salvini che non è un cantante ma è un politico che come sapete è abituato diciamo a girare in lungo in largo l'Italia Sappino dove ti trovi? In uno dei posti preferiti di Matteo Salvini in uno stabilimento balneare a Genova in quella che è il primo giorno della due giorni elettorale che Matteo Salvini dedica all'appuntamento elettorale di settembre dove il centrodestra qua candida Totti lo fa in un momento ti faccio vedere se Paolo mi asseconda stanno cominciando ad entrare le persone Matteo Salvini non è ancora arrivato è atteso per le nove farà un po' di ritardo perché prima di essere qua è stato a Albenga a Ventimiglia Salvini ha già parlato già detto alcune cose ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime del ponte Morandi ed è entrato sulla vicenda dei processi i processi per le navi dei migranti ha detto io il 3 ottobre sono a processo a Catania è per la nave Gregoretti poi c'è anche quella di Open Arms è un processo politico ma siccome la scelta fu politica e fu collettiva qualcuno del governo verrà lì con me diciamo è così risponde a Conte ha l'attuale polemica nel governo sulla gestione dei flussi migratori ma il tema dei processi è solo uno dei temi che in realtà mette un po' in difficoltà Salvini sono giorni non facilissimi non solo per il caso Fontana ma l'umore interni e poi c'è un po' questo il collocare oggi la nascita della nuova Lega la Lega che lascia alla Bad Company alla Lega di Bossi quella fondata nell'89 i debiti per i 49 milioni l'accordo con lo Stato di restituzione nasce una nuova Lega che però scontenta molti perché è un partito nazionale non più secessionista e quindi c'è il tema del litigio il supposto litigio con Zaia di cui chiederemo a Salvini appena arriverà ovviamente vi chiederò la linea bene allora chiedila arrivano le notizie che ci parlano ovviamente di un bilancio che peggiora sempre di più dal Libano in questo momento c'è uno strillo dell'Aggi pensate sono 27 morti e 2500 feriti a Beirut ed è ancora un bilancio provvisorio allora torniamo all'ingegnere Benedetti dopo questi aggiornamenti e quelli che potranno esserci in seguito ingegnere lei in questo momento è qui anche in veste di editore dopo una lunghissima e onorata carriera alla guida di uno del più importante giornale italiano del centro sinistra ne fonda uno nuovo l'idea e l'impresa erano iniziate prima dell'epidemia di covid prosegue tutto senza nessun ripensamento anzi accelera qual è la fotografia che fa adesso di questo battesimo che fra poco celebriremo ne sono sempre più entusiasta e convinto sia perché questa iniziativa editoriale ha delle caratteristiche uniche ne menziono solo qualcuna è un un giornale che nasce sul web e ha come accessorio di nobiltà la carta cioè il contrario di quello che sono tutti gli altri giornali italiani il domani ricordiamo il nome sono nati sulla carta il domani il domani dicevo anche per ragioni storiche i giornali sono nati sulla carta e poi hanno adottato una loro versione sul web quindi noi nasciamo come un giornale digitale è un giornale che è formato da una redazione giovanissima il direttore ha 35 anni Stefano Feltri è un giornale che ha in sé molte eccezionalità oltre a quelle ricordate vorrei dire che questo sarà l'unico giornale italiano che sarà di proprietà di una fondazione e questo per l'Italia è una novità assoluta ma nel frattempo nella fase di start up è un giornale che non porta nessun interesse con sé tutti i gruppi editoriali italiani con eccezione di RCS che è gestita da un editore che ha prevalente interesse in quel mestiere che altri sono tutti posseduti da persone o società che hanno interessi prevalenti in altri settori e quindi che si preoccupano di proteggere i settori più importanti per loro attraverso anche la stampa quindi questo giornale è totalmente indipendente perché non c'è nessun interesse economico io ho ceduto tutte le mie attività ho donato tutte le mie attività ai miei figli molti anni fa quindi non ho nessuna attività economica se non la gestione privata del mio patrimonio scusi non ha nessun conflitto di interesse mi chiediamo no proprio zero non siamo legati a nessun partito a nessun centro di potere né economico né politico siamo dalla parte di quelli che combattono le disuguaglianze siamo dalla parte di quelli che sono rimasti indietro e penso che daremo un contributo anche a quella parte di pensiero e di riferimento a quella parte d'Italia che dopo i recenti cambiamenti di proprietà nel giornale italiani è rimasta senza riferimento quindi ingegnere se abbiamo capito bene sarà comunque un nuovo giornale che si rivolgerà a un pubblico di lettori dell'area progressista quella che è stata l'idea nel 1976 e che diede come dire l'avvio alla stagione di Repubblica cioè diciamo i vostri lettori giocano in quel campo nel campo progressista nel cosiddetto campo progressista lei oggi la qual è la sua prima lettura del mattino del quotidiano del mattino è sempre la Repubblica il Corriere della Sera boh guardi dipende qualche volta dipende anche da dove mi trovo la stampa Repubblica il Corriere le dirò poi io leggo soprattutto molto anche giornali internazionali in particolare Financial Times New York Times Washington Post questi sono i miei riferimenti ma sarete più a sinistra o più a destra di Repubblica questo le due coordinate legge o dato ci lasciano intuire un posizionamento un po' più barricadero o no? No assolutamente no noi non vogliamo vogliamo occuparci di politica abbiamo certamente delle idee sulla politica ma odiamo la rissa politica che quindi non ci occuperemo delle delle risse né tra i partiti né dentro i partiti cercheremo di dare una visione di quella che in base anche alla nostra storia alla nostra visione noi pensiamo sia l'interesse migliore per il paese e per i suoi cittadini naturalmente questo è un fatto soggettivo e dica no no nel lancio del suo del suo giornale il giovane direttore Stefano Fettri che è stato peraltro che più volte il nostro ospite ha detto con una battuta anche piuttosto come dire divertente e pungente il mio editore è un signore che dopo gli 80 anni anziché comprarsi una bella barca ha deciso di fondare un giornale e che nel nostro paese è un'assoluta novità ma allora le vogliamo chiedere dalla sua viva voce che cos'è che l'ha spinta a tornare a fare l'editore a fondare un giornale il clima politico il fatto che c'era bisogno di colmare uno spazio cos'è che la fa tornare in battaglia? ma intanto non direi in battaglia diciamo in campo a me non piacciono queste espressioni rissa battaglia questo non fa bene al paese no io direi che quello che mi ha spinto è certamente il desiderio di dare voce a una opinione liberale democratica contro le disuguaglianze con critico nei confronti di tutti i poteri visto che in Italia non c'è più un giornale che svolge questo ruolo perché Repubblica non svolge più questo ruolo lei non è stato editore per tanti anni è cambiato qualcosa nell'identità di Repubblica con la nuova proprietà senza Teresi lei vuole veramente scherzare è evidente a tutti il cambiamento di linea politica di Repubblica quindi no ce lo spieghi veramente e lo sto chiedendo a lei non giochiamoci sopra non ci giochiamo sopra ce lo spieghi ma no ma non me lo chieda che lei lei lo sa meglio di me ma lei è un attento lettore per cui lo sa meglio di me io sono un attento lettore non ha bisogno di farmi queste domande eh ma una domanda le dobbiamo fare perché lei ne sta facendo uno nuovo di giornale quindi siccome quello è stato il giornale della sua vita è importante sapere cosa per lei è cambiato beh è cambiato il panorama della proprietà dei giornali italiani su questo non c'è dubbio in Italia oggi non esiste più un giornale che sia riferimento dell'area riformista del paese i giornali in Italia sono o di destra o di centro-destra e quindi o di destro di centro-destra o di centro ma non c'è più un giornale che si rivolga al pensiero riformista diciamo al pensiero che io amo definire gobettiano del paese ah questo è interessante quindi Repubblica è un giornale di centro in questo momento assolutamente allora tra poco torneremo a darvi altri aggiornamenti su Beirut le due esplosioni l'abbiamo sentito nella zona del porto almeno dieci morti centinaia i feriti tra poco cercheremo di collegarci con l'ambasciata ecco le immagini intanto che ci vengono direttamente da lì ci collegheremo tra poco con l'ambasciata italiana a Beirut anche per saperne qualcosa di più sui nostri connazionali i cittadini che sono nella città ma ritorniamo ancora all'incerti lei qualche tempo fa con una butad quella che poi lei stesso l'ha definita tale disse io sono la tessera numero uno del partito del partito democratico oggi lei non prende tessere di partito ma insomma vicino a chi quella dove è finita no non prendo scusi se la interrompo non prendo tessere neanche di bocciofile ah ecco nella uno nella due una tessera in tasca ce l'avrà però di qua del treno però a parte questo no no non prendo il treno di tessera ho la carta di credito altre tessere non le ho a chi diciamo a chi si sente vicino in questa in questa fase o viceversa come lo vede il partito democratico di Zingaretti ma lo vedo un po' confuso però devo dire che se guardo altrove la confusione mi sembra generale e anche più acuta di quella che vedo nel partito democratico allora vogliamo farle vedere una clip di una discussione possiamo far vedere queste immagini che arrivano dal satellite arrivano direttamente adesso da Beirut chiedo scusa anche a leggende Benedetti ma essendo editore ne capisce l'importanza e quindi tutte le notizie che ci arrivano noi ve le diamo live allora queste sono immagini che ci arrivano si si mandarle pure a tappeto grazie regia che ci arrivano proprio da lì di un quartiere completamente sventrato sventrato le immagini che ci ricordano di una esplosione che ha ricordato per certi aspetti chi era lì così lo ha definito lo scoppio di la bomba di Hiroshima una immensa nuvola di fumo che ha travolto con la sua forza una parte della città e ancora ci sono roghi accesi e fiamme in alcune zone della città allora fra poco ci collegeremo con un reporter sul posto per cercare anche di sapere qualcosa di più rispetto alla versione ufficiale che per ora non è cambiata si tratta dell'esplosione di un deposito forse materiali sequestrati però torniamo all'ingegnere Benedetti volevamo fargli vedere lo spezzone di un dialogo quasi surreale che è avvenuto in una delle nostre puntate sull'immigrazione ovviamente è uno spunto ma a lui vogliamo chiedere come ci si deve porre come si pone un riformista del terzo millennio di fronte a un problema epocale così importante allora la clip è quella del barboncino la morgesa è lì e fa una figuraccia al giorno va in Tunisia e sbarca e lo stesso giorno sbarcano i tunisini con i barboncini questo l'ha detta ma io dico c'è un'invasione di barboncini con milanti attacchiati cosa dice il barboncino dice che è una balla un barboncino dice che questi non derivano dai campi libri un cacchio scusate posso uscire un secondo ma guardate barboncini o non barboncini che bello questo duello sul barboncino perché ci dice qualcosa sulle metodiche di comunicazione politica io vorrei sapere se il barboncino è una risorsa c'è da chiedersi se il barboncino abbia il pedigree e se sia bianco o nero è una risorsa il barboncino cosa ti aspetti che ha fatto cioè vogliamo continuare la carica del 101 cosa c'è dobbiamo andare sul barboncino perché c'è stato l'uso politico del barboncino e anche degli occhiali da sole e del cappello da spiaggia rimane il fatto una parte della propaganda diciamo così anche legittivamente della destra l'ha utilizzata per dire ecco qua non c'è stato nessun provvedimento orvegliano il barboncino è lì tendenza su twitter ci sono calenda senaldi barboncino quella è la foto arrivano dall'Africa e vogliono invadere i nostri canili allora il tono è ironico ma il problema è serio siccome c'è una forte contrapposizione nel paese e il dibattito da tre anni è inchiodato su porti chiusi porti aperti qual è la sua idea ingegnere su questa grandissima emigrazione che attraversa il Mediterraneo ma è una migrazione che per quanto riguarda noi attraversa il Mediterraneo però è una migrazione che attraversa nella Nord America dal Messico agli Stati Uniti che riguarda l'immigrazione da alcuni paesi asiatici come il Pakistan o paesi del Medio Oriente come la Siria quindi non consideriamoci unici di fronte a questa tragedia epocale che sono l'immigrazione mi fa un po' mi sento un po' umiliato a sentire parlare di barboncini di fronte a una tragedia di questo genere e trovo che gli italiani meriterebbero delle analisi un po' più serie piuttosto che parlare di queste stupidaggine abbiamo una brevissima pausa e poi torniamo di nuovo in diretta con l'ingegnere De Benedetti e con tutti gli aggiornamenti da Beirutta tra poco state con noi Ora siamo di nuovo in diretta in onda ingegnere De Benedetti c'è un grande dibattito in Italia in questo momento su cosa riaprire e cosa non riaprire fra una linea più prudenziale e una linea meno prudenziale ci sono settori dell'economia che ancora non ripartono lei come ha interpretato diciamo il litigio dentro il governo sui treni sulla scelta originaria della ministra dei trasporti di aprire maggiormente la capacità di accoglienza dei treni e sull'altro l'ha ricevuto dal ministro della salute che abbiamo fra pochi istanti e dal comitato tecnico scientifico a me non piace dare voti ma certamente la decisione della ministra De Micheli era inopportuna credo che il ministro speranza abbia fatto bene a rimettere le cose anche nell'ambito delle sue competenze che mi pare che siano prevalenti io penso che prima di tutto venga sempre la salute la salute è la priorità poi tutte le altre cose vengono dopo perché l'unica cosa che non possiamo comprare o modificare se non marginalmente è la nostra salute per cui qualsiasi cosa deve essere sacrificato alla salute perché noi viviamo di salute di nient'altro quindi lei continua a essere molto prudente anche a livello personale in questi giorni assolutamente assolutamente sì io sono in casa mia a Doliani rispetto non esco quasi mai rispetto rigidamente il distanziamento quando qualcuno viene a trovarmi la mascherina e quindi mi lavo le mani faccio faccio quelle cose che ci hanno consigliato di fare ecco non capisco perché dovrebbe essere una cosa speciale fare le cose normali quindi secondo lei alla fine l'Italia è stato un modello nella gestione non solo nella fase di lockdown ma anche nel post lockdown un modello nella gestione del covid-19 ma io dico nella nella gestione della fase 1 del covid l'Italia è stato un modello anche per chi si è trovata a essere in prima linea cioè il paese che è stato colpito per prima è l'Italia però se guardiamo l'Italia la compariamo con altre nazioni europee la compariamo con degli squilibrati come il premio ministro britannico o addirittura dei folli come il presidente degli Stati Uniti l'Italia è stata bravissima allora ringraziamo molto l'ingegner De Benedetti per questo suo intervento anche per i tempi veramente moderni e facciamo gli auguri per il domani ricordiamo il giorno in cui uscirà ingegnere a settembre c'è una data già esatta sicura certa il 15 il 15 settembre bene ogni voce ogni voce si aggiunge al panorama dell'informazione è una ricchezza allora ci fermiamo per la pubblicità salutiamo l'ingegner De Benedetti torniamo delle immagini sconvolgenti da Beirut e poi ci colleghiamo con il ministro Speranza restate inchiodati allora di nuovo in diretta 21 e 20 in una serata molto molto particolare in cui dobbiamo darvi conto di quanto sta avvenendo a Beirut l'inferno di Beirut due esplosioni nella zona del porto ad ora risultano intanto vediamo le immagini che ci manda la regia 27 morti tra i 2500 i feriti tra questi vi sarebbe anche un militare italiano e queste qui sono le immagini che vi prego di mandare a tutto schermo che testimoniano bene qual è stato l'impatto di questa violentissima esplosione di cui per la verità ancora ancora non si sa molto c'è una nota del nostro ministro degli esteri Di Maio che mostra vicinanza ovviamente al governo di Beirut Cordoglio eccolo qua l'Italia è vicina agli amici libanesi dice il ministro Di Maio in questo momento tragico i nostri pensieri vanno alle famiglie delle vittime a cui esprimiamo il nostro profondo Cordoglio e alle persone ferite a cui auguriamo una pronta guarigione lo dice il ministro degli esteri Luigi Di Maio noi siamo in grado ora abbiamo anche con noi il ministro della salute e speranza con cui affronteremo ovviamente i temi di casa nostra intanto salutiamo speranza grazie per essere con noi se lei ci dà soltanto buonasera ministro lo capirà se ci dà soltanto quattro minuti ci colleghiamo in diretta con Beirut dove c'è Lorenzo Forlani che forse ci può fare no ancora non c'è allora tra poco appena sarà possibile vi daremo conto in presa diretta di quello che sta accadendo in queste ore cercando di fare anche chiarezza su una situazione che è complessa e su cui arrivano poche notizie meno male che siamo in due perché bisogna fare dei straordinari però cominciamo subito con il ministro perché questa settimana non possiamo non chiederle o tutta l'Italia si è interrogata intorno al retroscena del duello pubblicato dal Corriere della Sera fra lei e il ministro dei trasporti De Micheli ovviamente so già che tenderà a dire ma no non è così però uno scontro c'è stato ed è stato sul tema della capacità di carico dei treni dell'alta velocità qual è la ricostruzione che ci dà di questo diverso scambio di opinioni chiamiamolo così ma non c'è stato nessun diverbio è una ricostruzione giornalistica infondata il governo è stato da sempre unito sulla linea della prudenza della cautela è chiaro che l'Italia sta meglio rispetto ai mesi passati e in questo momento vive anche una situazione migliore rispetto a tanti altri paesi europei lo dicono i numeri e questi numeri ci confortano ma la nostra impostazione è quella di continuare ad avere un atteggiamento di grande cautela e di grande prudenza tra l'altro mi permetta di dire che proprio il ministro De Micheli è stato sin dall'inizio forse perché originaria di una città particolarmente colpita qual è stata Piacenza molto sensibile alla questione della salute e quindi del contrasto efficace e rigoroso al virus io penso che dobbiamo dire sempre la verità noi siamo fuori dalla tempesta non siamo più nella stagione di marzo di aprile quando avevamo i posti letto in terapia intensiva che erano quasi al limite quando il virus circolava in modo veramente molto molto preoccupante siamo in una fase diversa non siamo nella tempesta ma non siamo neanche in un porto sicuro e non ci conforta il quadro che c'è attorno a noi siamo in uno dei momenti peggiori sul piano internazionale a livello mondiale e anche in Europa i segnali non sono buoni non lo sono in modo particolare nei Balcani per questo abbiamo assunto misure molto dure rispetto ad alcuni paesi dei Balcani ma anche alcuni importantissimi paesi europei segnalano una ripresa della circolazione del virus quindi sarebbe sbagliato non dare ancora un messaggio di prudenza di cautela abbiamo scelto unitariamente questa strada le facciamo vedere la ricostruzione che ha fatto la nostra amara Grazia Gelina e poi lei ci dice esattamente come è avvenuto perché comunque se un ministro fa una cosa e un altro all'epoca una diversa visione ci deve essere assolutamente vediamola insieme Quegli atti non devono essere eletti almeno per il momento il monito arriva direttamente da Palazzo Chigi e gli atti in questione sono quelli del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile che hanno portato l'Italia a lockdown Abbiamo sbagliato il servizio allora facciamo così vediamo il servizio di Maria Grazia Gelina Che dopo il 31 luglio sui treni si potesse tornare a viaggiare senza il metro di distanza era scritto nero su bianco nel decreto firmato dal Presidente del Consiglio e controfirmato dal Ministro della Salute lo scorso 14 luglio è consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro a bordo dei treni a lunga percorrenza per due settimane tutto tace poi scatta il caos comunicazione viaggiatori dal 31 luglio è possibile occupare il 100% dei posti a sedere apriti cielo a treni di nuovo pieni come prima del Covid il Comitato Tecnico Scientifico non consultato prima si è infuriato e nelle stanze del governo è partita la caccia al colpevole il decreto non ha mai autorizzato il riempimento al 100% per 24 ore la palla è caduta nel mezzo tra la ministra De Micheli che non voleva fare marcia indietro e quello della salute che dal 1 agosto ha ripristinato il metro di distanza a bordo dei treni senza litigare con me e senza che io litigassi con lui risultato niente più deroga e migliaia di biglietti annullati la ministra dei trasporti non l'ha presa bene e ora chiede che il Comitato Tecnico Scientifico torni a riconsiderare quanto scritto nel DPCM Riteniamo che sui mezzi di trasporto ci siano le condizioni per passare dall'attuale riempimento al 50% a un riempimento del 75-80% che era l'oggetto del DPCM del 14 luglio scritta male malinterpretata e alla fine cancellata la deroga della discordia potrà essere ripristinata? Allora caro ministro beh indubbiamente qualche misunderstanding chiamiamolo così c'è stato perché come dire la ricostruzione è fedele se non altro perché ha utilizzato sui documenti gli audio originali come si dice nello specifico guardi noi abbiamo iniziato la fase di riapertura nel nostro paese il 4 maggio e dal 4 maggio abbiamo fatto un percorso graduale 18 maggio 3 giugno ogni due settimane provavamo ad allargare un po' di più le maglie per uscire dal lockdown e continueremo ancora a far questo il passaggio poi più difficile sarà sicuramente quello della riapertura delle scuole dico più difficile perché impegna 10 milioni di persone ma noi lo faremo sicuramente apriremo tutte le scuole di ogni ordine e grado a metà di settembre ci sono tre regole che sono rimaste in piedi alla fine ci sono tre regole fondamentali queste tre regole dobbiamo rispettarle perché sono quelle che possono consentirci di convivere con il virus l'utilizzo della mascherina che è veramente importante il mio appello a tutti è di utilizzarlo ed è obbligatorio in tutti i luoghi chiusi il distanziamento di almeno un metro e il lavaggio frequente delle mani sono tre norme che non sono le norme durissime del mese di marzo del mese di aprile in cui dicevamo ai cittadini dovete restare a casa sono chiusi i ristoranti i bar non si può andare in qualche modo al lavoro abbiamo riaperto sostanzialmente tutto ma queste tre regole essenziali vanno rispettate perché sono le tre regole che ci possono accompagnare in questa fase di transizione poi a un certo punto io mi auguro nel più breve tempo possibile avremo un vaccino avremo delle cure efficaci avremo un vaccino sicuro e a quel punto potremo tornare davvero alla normalità ma per il momento è indispensabile rispettare queste tre regole essenziali però scusi le faccio un esempio sulle navi da crociera un comparto che porta turismo è decisivo per la nostra economia c'era un protocollo condiviso c'era anche un parere favorevole perché non sono ripartite qui parliamo di un settore che ha 75 mila occupati diretti 135 mila occupati indiretti non parliamo di tutti i passeggeri non parliamo del settore delle costruzioni fincantieri perché alcune cose non ripartono cioè sembra mi perdoni ma qui vorrei proprio una cosa chiara che dietro di lei ci sia una specie di canne da guardia che è il comitato tecnico scientifico che ogni volta si riapre qualcosa anche in modo condiviso e prudente inizia ad abbagliare è sbagliato? ma guardi intanto intanto mi permetta di ringraziarlo il comitato tecnico scientifico perché se oggi l'Italia è riuscita a piegare la curva e sicuramente per il comportamento delle persone ma anche perché i nostri scienziati hanno avuto la capacità di capire forse un po' meglio un po' prima di altri scienziati a livello internazionale che c'era bisogno di misure molto rigorose noi continueremo questo percorso di apertura il percorso continuerà stiamo costruendo col comitato tecnico scientifico dei protocolli di sicurezza che ci mettono nelle condizioni di far ripartire tutte le attività ma in sicurezza quelle regole essenziali continueranno ad essere valide le navi da crociera ripartiranno a un certo punto ma ripartiranno rispettando queste regole fondamentali ho capito ma si perde tutta la stagione noi stiamo lavorando perché ci sia presto una data noi stiamo lavorando perché ci sia presto una data sulle navi da crociera come sulle fiere noi vogliamo continuare questo percorso di apertura avere dei protocolli di sicurezza e interesse non solo del governo che chiaramente prova a limitare la diffusione del contagio ma anche di chi è in qualche modo titolare di questi esercizi perché una persona su una nave ci risale se è sicuro della propria condizione di salute è una persona un treno lo prende più serenamente se sai avere più possibilità non è come accendere un motorino scusi Ministro non è che uno accende un motorino e giura la chiave bisogna fare le prenotazioni cioè qui bisogna capire si parte in questa stagione oppure no perché altrimenti si perde la stagione sì io sono convinto che si partirà in questa stagione ma guai a commettere un errore ecco vorrei essere chiaro su questo punto guai a pensare che la ripresa economica la ripartenza sia in contraddizione con la questione sanitaria vincere la battaglia sanitaria è la premessa per far ripartire il paese se noi non siamo rigidi rigorosi sulle questioni di sicurezza sulle questioni della salute sarà impossibile far ripartire fino in fondo la nostra economia chi ci racconta che c'è un contrasto tra gli scienziati che sono rigidi che dicono di no e un paese che vuole ricominciare a correre ci sta dicendo una clamorosa bugia perché il paese ricomincia a correre la premessa fondamentale è vincere la battaglia sanitaria e oggi guardate i numeri dell'Europa guardate i numeri del mondo l'Italia è vista con interesse io oggi ho avuto una conversazione col capo dell'OMS Tedros che dice abbastanza continuamente che l'Italia è stata un esempio positivo perché è riuscita a piegare questa curva vincere la battaglia sanitaria è la premessa perché il paese riparta davvero Lorenzo Forlani dell'AGI in diretta da Beirut e poi sentiamo che cosa ha detto il ministro della difesa Guerini in merito al militare italiano difeso allora Lorenzo Forlani qual è la situazione che cosa ci puoi dire e intanto vediamo anche le immagini che ci arrivano da lì altre immagini della potenza devastante di questo scoppio eccolo qua prego sì buonasera buonasera sentite sì vai sì no dunque per adesso il bilancio ufficiale è di 25 morti e migliaia di feriti io temo che saranno di più perché mi sono allontanato in questo momento dal luogo dell'esplosione e la protezione civile le diverse protezioni civili che ci sono in Libano sia quella nazionale che quella legata al partito di Hezbollah stanno prendendo stanno raccogliendo diversi corti diversi feriti e diversi anche morti e almeno quattro membri degli staff sanitari mi hanno parlato di centinaia di morti poi a seconda della sfidabilità diciamo del momento in ogni caso i feriti sono migliaia già a due chilometri dall'esplosione ci sono palazzi distrutti a due o tre chilometri dall'esplosione che ipotesi si fanno le ipotesi per ora per ora si tende a pensare che la causa sia che si sia fatto un incidente colposo e l'idea che era circolata che ci fosse questa esplosione di un deposito di fuochi di artificio dovrebbe essere è stata bypassata dal capo dell'agenda di abbas ebraim probabilmente c'è stato l'esplosione è avvenuta al molo nord quello che contiene anche i silos con benzina materiale altamente inclusive anche come detto dallo stesso generale però si fanno diciamo speculazioni in questo momento pare che sia appunto un incidente un errore di qualche genere e non una si esclude ecco dicci solo questo e poi torniamo al ministro Speranzia si esclude in maniera tassativa l'ipotesi di qualunque retroscena bellico militare o di intelligenza militare no dunque da escludere direi no ma neanche perché diciamo nei momenti appena successivi all'esplosione io mi trovavo anche abbastanza vicino e sono in telecircolare delle notizie di aerei tra i piani sopra saida qualcuno ha parlato di un'istile queste per ora sono smentite e d'altronde anche l'altra in qualche modo l'altro indizio che si considera è un'azione un'azione diciamo terroristica si pensa di no sostanzialmente perché la zona in cui è venuta l'esplosione è una zona appunto che contiene del materiale esplosivo quello che è possibile è che ci siano delle armi magari delle armi chiaramente di agonamenti pesanti che sono immagazzinati in un'area del porto però diciamo per adesso tutto fa pensare a un incidente ma chiaramente un incidente grazie grazie mille ricollegati con noi se ne hai la possibilità e se hai delle novità allora ritorniamo al Ministro Speranza ci parlava di questo percorso difficile vogliamo farle una domanda sulla scuola perché è l'altro grande dilemma lei ha detto riapriremo questo ci rende contenti è sua la responsabilità di riaprire o meno questo è importante ma non pensa che tutto quello a cui abbiamo assistito l'idea del bando di gara per due milioni e mezzo di banchi da mettere in scuola in classe in un mese di fatto e poi il mese di agosto fosse un po' macchinosa si potrà derogare a questa ipotesi dei banchi monoposto se non si riuscirà se il commissario Arcuri non riuscirà a comprarli nei tempi ristrettissimi che abbiamo intanto mi permetta solo per un istante di esprimere cordoglio per quelle immagini terribili che stanno arrivando da Beirut l'ho fatto il ministro degli esteri credo che sia giusto che anche la nostra comunità nazionale si stringa attorno a quella città sulla scuola io penso che siamo di fronte al passaggio più importante io la direi così il lockdown finirà davvero fin in fondo nel nostro paese nel giorno in cui i nostri figli potranno tornare a scuola quindi è giusto che noi ci mettiamo tutta l'energia possibile ed effettivamente negli ultimi mesi abbiamo stanziato risorse che non si vedevano da tempo io penso che decidere per esempio di cambiare i banchi di assumere nuovo personale di ricominciare ad investire su chi lavora dentro quegli istituti ricostruire per esempio come stiamo provando a fare una relazione tra sanità e scuola una relazione che esisteva negli anni 60 ci fu una norma che approvò la cosiddetta medicina scolastica nel 1961 poi la stagione dei tagli che ha fatto seguito agli anni 90 ha fatto sparire questa norma e scuola e sanità non si sono più parlate mentre io penso che scuola e sanità debbano necessariamente parlarsi anche perché competenze di materia sanitaria non le possiamo mica scaricare sui presidi sugli insegnanti sarebbe un errore clamoroso quindi io penso che dobbiamo provare a trasformare la crisi in un'opportunità questa è l'occasione giusta per ricominciare a mettere fino in fondo risorse sulla scuola perché la scuola è veramente una chiave fondamentale ecco a me piace dirla così scuola e salute scuola, formazione sanità, tutela della salute diritto alla salute sono le due leve fondamentali per costruire un paese migliore quindi io penso che ogni volta che si dice che mettiamo dei soldi per cambiare banchi per assumere persone per migliorare la qualità abitativa dei nostri studenti nei luoghi in cui appunto spendono un pezzo decisivo della propria vita si sta facendo la cosa giusta e dobbiamo insistere in questa direzione assolutamente sì ma i banchi sono una condizio i banchi sono una condizio sine qua non o no? cioè siamo d'accordo sul discorso di principio però siccome a un certo punto avete detto voi è necessario cambiare i banchi altrimenti non sarà possibile con i banchi tradizionali garantire le rime buccali il distanziamento sociale e questi banchi sono e restano una condizione sine qua non devono arrivare entro il 14 settembre o no? o potrà esserci una deroga? stiamo lavorando a questo obiettivo il governo sta lavorando con tutti gli strumenti che il commissario straordinario ha a sua disposizione perché arrivino dei banchi nuovi e così come ci sarà bisogno c'è un lavoro in corso in tutte le regioni italiane di trovare nuovi spazi di provare a favorire il massimo distanziamento possibile poi come è noto alla fine di agosto nell'ultima decade di agosto il comitato tecnico scientifico farà un'ulteriore valutazione sulla base del quadro epidemiologico per capire quali norme saranno davvero quelle definitive che accompagneranno la riapertura della scuola il 14 di settembre però ribadisco un punto ecco forse il covid da questo punto di vista ci dà l'opportunità di una nuova stagione di investimenti importanti se possiamo portare nuovi banchi nelle nostre scuole ecco io penso che sia un fatto assolutamente positivo che va nella direzione giusta proviamo a viverla anche così il Papa l'ha detta meglio di tutti gli altri io credo cioè che peggio di questa crisi c'è solo il rischio di sprecarla ecco io penso che in queste poche parole Papa Francesco abbia indicato una strada non sprechiamo questa crisi e non sprecarla significa anche ricominciare ad investire sulla centralità di alcuni beni pubblici fondamentali la scuola la formazione è un bene pubblico fondamentale la sanità il diritto alla salute sono sicuramente beni pubblici fondamentali allora sfruttiamo questo passaggio abbiamo pagato un prezzo enorme impariamo la lezione ricominciamo con coraggio ad investire quello che stiamo facendo allora c'è una polemica in queste ore che ci interessa come dire affrontare di petto con lei ed è la questione della secretazione dei verbali del comitato tecnico scientifico allora cerchiamo di capire di che cosa si tratta e lo facciamo con questo brevissimo servizio che però ci racconta esattamente il caso quegli atti non devono essere eletti almeno per il momento il monito arriva direttamente da palazzo chigi e gli atti in questione sono quelli del comitato tecnico scientifico della protezione civile che hanno portato l'italia a lockdown secretati e infilati in un cassetto ora la fondazione in audi chiede che vengano resi pubblici alla richiesta ha risposto direttamente l'avvocatura di stato e quindi il governo in persona affermando in un ricorso al consiglio di stato che la sua pubblicazione porterebbe a un danno concreto all'ordine pubblico e alla sicurezza eppure il tar del lazio con una sentenza del 22 luglio ne aveva disposto la desecretazione ora tutto rinviato nulla da fare almeno fino al 10 settembre nel frattempo l'opposizione insorge ed è la lega a chiedere in senato che la presidente casellati metta in campo tutte le iniziative necessarie per permettere ai parlamentari di accedere agli atti e ai pareri del comitato scientifico Palazzo Chigi ha chiesto di attendere almeno il 15 ottobre quando dovrebbe scadere la proroga dello stato di emergenza ma è la fondazione in Audi a instillare il dubbio affermando non pubblicare gli atti dimostra non voler far sapere agli italiani quali siano le reali ragioni alla base degli innumerevoli decreti del presidente del consiglio e ora in questa battaglia di ricorsi non resta che chiedersi perché gli atti che portarono al lockdown rimangono chiusi in un cassetto allora ministro la fondazione in Audi non è sicuramente come dire un partito sovranista pronto a fare polemica quindi il grande in Audi diceva conoscere per deliberare perché si è reso necessario e il governo l'ha ritenuto tale di dover mettere il segreto sugli atti i verbali del comitato tecnico scientifico a me sinceramente questa storia non mi risulta esattamente nei termini in cui è stata descritta e anche della domanda che mi ha fatto a me risulta semplicemente che il comitato tecnico scientifico si è dato un vincolo di riservatezza che credo sia anche abbastanza comprensibile rispetto alle scelte che hanno fatto per quanto mi riguarda io sono per la massima trasparenza credo che in questi mesi difficilissimi abbiamo avuto una trasparenza totale e in tutti i passaggi abbiamo provato a dire fino in fondo come stavano le cose ai nostri concittadini anche pagando un prezzo enorme perché nella prima fase eravamo quasi l'unico paese in occidente dopo la Cina che aveva casi enormi e noi li abbiamo dichiarati tutti senza alcuna paura anche per un attimo alimentando l'idea che noi potessimo essere in qualche modo gli untori del mondo quindi io sono per una linea di massima trasparenza credo che tutti gli elementi di nostra conoscenza possano essere diciamo resi pubblici senza alcun tipo di problema senta in questi giorni per capire com'è la bussola che muove lei e il comitato o il ministero oscilliamo diciamo così fra 100 e 200 casi di contagio la maggior parte asintomatici in un paese come l'Italia che ha 60 milioni di abitanti lei come giudica questi numeri non sono tutto sommato quasi straordinari pensa che siano perfettibili che si può abbassare ancora di più questa media e questa sorta di flusso se guardo agli altri paesi europei sono numeri positivi la Spagna sta facendo più o meno 1500 casi al giorno la Francia ha fatto 1200-1300 la Germania 900 noi siamo stati tra i 150 e i 380 390 quindi in questo momento siamo il paese europeo che sembra avere la situazione più sotto controllo ma il virus circola anche nel nostro paese e noi dobbiamo rispettare quelle norme fondamentali per provare a tenere la situazione ancora sotto controllo ecco io insisto la battaglia purtroppo non è vinta a me piacerebbe moltissimo poter annunciare in televisione alla comunità nazionale che abbiamo vinto e che finalmente possiamo tornare alle abitudini di prima ma direi una cosa non vera e credo che un ministro debba sempre avere un vincolo di verità in quello che dice e poi di coerenza in quello che fa noi siamo messi meglio della larghissima parte dei paesi europei in questo momento siamo messi meglio della larghissima parte dei paesi del mondo però non dobbiamo pensare che abbiamo già vinto perché proprio i sacrifici enormi che abbiamo fatto negli ultimi mesi ci hanno portato a questo risultato e io dico oggi tutto possiamo permetterci tranne che vanificare i sacrifici straordinari fatti dalle italiane e dagli italiani e allora queste tre regole non ce ne sono 20 non ce ne sono 100 sono rimaste tre regole essenziali non impossibili da rispettare l'utilizzo della mascherina la distanza di almeno un metro e il lavaggio frequente delle mani queste tre regole possono farci consolidare il risultato ottenuto negli ultimi mesi e accompagnarci a una stagione nuova che arriverà io credo con il vaccino e mi auguro che questa data arrivi nel più breve tempo possibile allora è con noi anche il professor Massimo Galli direttore delle malattie infettive dell'ospedale Sacco in una giornata buonasera professore in una giornata particolare in cui peraltro anche il presidente Donald Trump che abbiamo imparato ai noi a conoscere come uno scettico del virus in realtà anche un signore come Trump oggi ha detto è da patrioti indossare la mascherina allora prima di coinvolgere il professor Galli nella nostra conversazione salutando il ministro Speranza beh alla fine anche oltreoceano si sono accorti che la mascherina ti salva la vita la stupisce questo cambio di rotta del presidente Trump Speranza c'è ancora sì però non abbiamo l'audio abbiamo perso il suo inizio può ripetere Speranza mancava l'audio non mi stupisce il comportamento di Trump di queste ore mi ha profondamente stupito il comportamento di Trump precedente chi ha investito ha scommesso sulla cosiddetta teoria dell'immunità di Gregg ha pagato un prezzo enorme oggi mi sembra che con un po' di ritardo sia Trump che Boris Johnson che erano in qualche modo i due che si erano più esposti su un'ipotesi così detta dell'immunità di Gregg abbiano cambiato linee questo è sicuramente un fatto positivo mi verrebbe da dire meglio tardi che mai va bene così avanti Antone I Fauci nella puntata scorsa ha detto l'Italia ha fatto bene vorrei avere lo stesso numero di contagi che avete voi non so se ha sentito questa affermazione ma immagino che la metta di buon umore sì l'ho sentita così come c'è stato un pezzo del premio Nobel Krugman sul New York Times ci sono elementi di apprezzamento sul piano internazionale ma credo che dobbiamo mantenere i piedi per terra e ribadisco guai a pensare che la battaglia sia vinta siamo in una fase diversa possiamo guardare con più fiducia al futuro ma ancora abbiamo bisogno di tenere una grandissima attenzione conterà in queste settimane la velocità di isolare i cluster di identificare i casi positivi di metterli subito in isolamento conterà la capacità di intervenire su chi viene da altri paesi d'Europa e del mondo insomma abbiamo bisogno ancora di continuare perché la battaglia non è vinta è chiaro che quando una personalità come Fauci esprime un giudizio positivo sull'Italia siamo tutti in qualche modo soddisfatti anche per il lavoro complicatissimo che è stato fatto in questi mesi il lavoro soprattutto me lo faccia ricordare dei medici degli infermieri del nostro servizio sanitario nazionale che ha retto in maniera straordinaria però lo ribadisco piedi per terra perché non abbiamo vinto e la partita non è breve ancora benissimo grazie vi do due notizie in diretta su due fronti diversi una purtroppo arriva da Beirut e ci dice che le vittime stanno salendo sono 50 quelle accertate dal ministero della sanità 2750 i feriti la seconda riguarda un tema di cui stiamo parlando da molto tempo qui in onda è quella del blocco dei licenziamenti ne abbiamo parlato poco fa anche con l'ingegnere dei Benedetti ebbene arriva un'agenzia dell'ANSA un lancio dell'ANSA che dice che l'ipotesi è quella di provocarli fino al 15 ottobre Davide è meno di quello che ipotizzava Gualtieri nell'ultima volta che è venuto qui e nelle sue comunicazioni ufficiali quindi è un tema su cui vi teremo informati allora gli ospiti di questa parte Massimo Galli lo avete visto è lì sul punto di comando collegato Giulio Gallera assessore al welfare della Lombardia spero che sia già connesso Tonia Mastrobuoni di Repubblica e poi fra poco dopo una prima parte in cui parleremo strettamente degli aspetti tecnici del virus arrivano due giornalisti tra virgolette di caratura politica per aiutarci a capire le implicazioni di questo discorso e allora partiamo però dai cosiddetti negazionisti del virus come sono chiamati Tonia Mastrobuoni che è corrispondente per la Repubblica da Berlino le immagini che ci vengono dalla tua città sono assolutamente allarmanti e la prima cosa che ti vorrei chiedere da cronista cronista di lungo corso è proprio il clima il sentiment che c'è in questo momento un sentimento che forse in Italia non è così diffuso mentre queste immagini che noi adesso stiamo trasmettendo in diretta si restituiscono una Berlino città aperta una città che conosciamo tutti come molto molto dinamica ma ci fanno ci mettono paura queste immagini come si è arrivati a questo Tonia? qual è il clima che si respira? non c'è molto distanziamento no alcuno distanziamento no esatto ma in realtà sono manifestazioni cominciate già con durante il lockdown come sapete in Germania è stato molto meno pesante che in Italia certo c'era un lockdown vero la gente poteva uscire si potevano uscire massimo in due persone e poi c'era questo distanziamento di un metro e mezzo tra una persona e l'altra se questa persona era del nucleo familiare eccetera già durante questo periodo abbastanza insomma libero rispetto ad altri paesi pensiamo a noi all'Italia appunto alla Spagna ogni sabato si incontravano in varie città tedesche e bisogna soprattutto tenere sotto osservazione Berlino e Stoccarda si incontravano delle persone di una cosiddetta Queafont così è stata chiamata come negli anni venti erano gli estremisti di destra e di sinistra che cercavano in qualche modo di trovare un fronte comune questo fronte trasversale appunto si vedeva in piazza ogni sabato e già all'epoca i politici avevano espresso grande preoccupazione perché eravamo nella fase acuta del virus e queste persone si vedevano senza mascherina contestando anche le restrizioni minime e sostenevano che non ci fosse motivo primo di essere allarmati per un virus che molti di loro considerano poco più di un'influenza stagionale secondo non sopportano queste restrizioni personali e lì ci sono diciamo almeno due fronti il primo è il fronte dell'estrema destra e dell'alternative für Deutschland cioè neonazisti e destra ultra destra parlamentare che si sono trovati diciamo nell'idea che le restrizioni delle libertà personali siano intollerabili da notare che quando il virus arrivò in Europa l'AfD e anche l'Utta Destra in un momento furono disorientati perché dissero in sostanza con la chiusura delle frontiere si realizza un sogno e anzi loro chiesero delle restrizioni ben più pesanti ed erano molto naturalmente soddisfatti il fatto che non fossero più migranti non ti lasciassero entrare più migranti poi hanno capito che c'era un filone invece che stava emergendo da ambienti molto tipicamente tedeschi e che loro potevano sfruttare e sto parlando degli ambienti diciamo della medicina alternativa della medicina homeopatica dei Novats alcuni di questi non tutti ovviamente perché questa è una tradizione che esiste appunto soprattutto a Stoccarda perciò citavo la città Sveva è la città di Rudolf Steiner insomma anche della antroposofia quindi la grande maggioranza di queste persone sono ovviamente razionali sono assolutamente quindi tu dici scusa Vittoria poi ci in qualche modo dice il pericolo non viene dal virus ma dalla paura del virus che è una sciocchezza inaudita ovviamente perché loro in qualche modo minimizzano l'effetto del virus allora ottimo professor Galli inizi lei e ci commenti le immagini di questo corteo che a noi fanno venire in mente giorni lontani immagino anche a lei quanto stanno rischiando i tedeschi a suo parere se c'è una manifestazione che si svolge senza nessun distanziamento anzi con un assembramento e vediamo le immagini della Movida in Italia vediamo vediamo Galli ecco qua si sta autochiamando professore ci siamo professore diamoli l'audio la vediamo se no sentiamo subito Gallela perché ecco eccolo ecco vada la cercano tutti stanno rischiando un bel po' voglio dire chiuda le altre chiamate ho un rumore di disturbo terribile che non mi consente ma non è telese che disturba stavolta è su skype professore caro facciamo così la stanno chiamando da tutto il mondo siccome lei è uomo ricercatissimo allora mettiamo mamma mia ma in quanti la chiamano professore forse adesso va meglio ecco bene allora diceva stanno rischiando con quel corteo domani ci sarà un'impennata nei contagi più che per il corteo in sé per quello che comunque è un atteggiamento che credo che possa essere considerato un atteggiamento oggettivamente pericoloso io spero che mi sentiate perché ora benissimo professore benissimo la sentiamo niente la sentivamo perfettamente la sentivamo allora sentiamo Gallera sentiamo Gallera che in realtà grazie intanto per essere tornato in televisione dopo una breve assenza ma dovuta anche a una breve vacanza che giustamente anche lui ha fatto ma torna in televisione molto importante assessore alla sanità della regione di Lombardia ecco da politico questi negazionisti del virus come li vede lei? malissimo sono molto stupito che in Germania che di solito un popolo rigoroso molto rispettoso delle regole e delle leggi alla fine ci sia un numero così ampio di persone che manifesta contestando quello che è un comportamento che l'ha detto il ministro prima io non posso che fortemente condividerlo cioè questo virus lo si sconfigge con delle regole che vengono date ma con una grande responsabilità personale e gli italiani che sono sempre stati considerati un po' pizza e mandolino cioè voglio dire quelli che si arrangiavano creativi che trovavano le scorciatoie questa volta sono stati molto ligi nel rispettare le regole del distanziamento delle mascherine nel non uscire del lockdown e oggi consentono alla Lombardia e all'Italia insomma di togliersi qualche soddisfazione il New York Times l'avete forse detto anche voi ieri ha fatto un lungo articolo dicendo che prima noi se eravamo considerati un esempio negativo nelle prime settimane e oggi si sono ricreduti tutti dicendo che l'Italia e la Lombardia sono un modello perché noi con la tempestività delle misure anche rigide e dure e con il rispetto di queste misure da parte dei cittadini oggi abbiamo una situazione molto migliore che poi non dobbiamo per questo rilassarci ma insomma almeno guardare con soddisfazione a quello che abbiamo fatto e a quello che non hanno fatto altri Teme in Lombardia a ottobre il rischio della seconda ondata perché noi abbiamo avuto ospite lo ricordavamo prima col professor Galli Anthony Fauci il super esperto della sanità americana il quale ci ha detto attenzione perché da quello che so io al nord e con il freddo potrebbe esserci il rischio di una recrudescenza del virus lei che cosa teme cosa pensa che dati ha sottomano per supportare o smentire questa tesi beh guardi noi siamo costantemente preoccupati anche perché qualcuno aveva detto che col caldo il virus in qualche modo veniva si attenuava sia nella diffusione sia nella virulenza e il mondo ci sta dimostrando che non è così no? il Sud America è un paese dove il virus sta dilagando così anche in altre parti del mondo e anche nella nostra Italia il virus c'è ancora anche se oggi ha una carica virale inferiore quindi probabilmente non c'è neanche un tema di voglio dire di autunno ma una presenza costante quindi noi siamo molto sul chi va là ma oggi abbiamo dei sistemi fortemente più performanti oggi abbiamo individuato da un lato una brutta notizia e dall'altro una notizia però dell'efficacia del nostro sistema un focolaio di 97 positivi in un'azienda che lavora che raccoglie e distribuisce meloni e angurie di cui tre sono sintomatici e tutti gli altri sono asintomatici tutto è nato da una segnalazione di un medico di medicina generale rispetto al fatto che un suo paziente aveva la febbre da lì è stato tamponato e poi abbiamo tamponato non solo i suoi familiari ma tutti coloro che lavoravano in questa azienda e sui 172 tamponi fatti 97 sono risultati positivi quindi vuol dire che c'è una grande azione molto efficace che va in profondità nella ricerca del virus ma il virus c'è quindi noi siamo molto attenti vanno tutti in quarantena? assolutamente in quarantena loro e tutti i loro contatti diretti certo questo è il metodo che noi stiamo adottando l'abbiamo fatto i salunifici i luoghi dove si viene trattata la carne oggi queste realtà dell'agricoltura quindi piuttosto che voglio dire in altre realtà in cui abbiamo individuato dei positivi stiamo i positivi che oggi emergono dalla Lombardia quei numeri che voi leggete tutti i giorni sono in gran parte frutto di questa azione di carotaggio e di screening molto ampia e noi contiamo con questo di riuscire in qualche modo stiamo correndo dietro al virus per contenerlo e soffocarlo speriamo che questa azione sia efficace anche in previsione dell'autunno allora stiamo cercando di recuperare il professor Galli e contiamo di riuscirci in tempi brevi cioè almeno entro le undici e con noi intanto ci sono Francesca Nava e Stefano Zurlo benvenuti voi ci siete sì la Nava la vedo ciao benvenuta buonasera Stefano Zurlo del giornale eccolo qui che si trova buonasera buonasera sei diventato sindaco Zurlo è bello vederti non ancora il sindaco di Bagnaria mi ospita molto volentieri io ricambio e ringrazio il comune di Bagnaria però devo dire che ti dona sindaco Zurlo allora Gallera la cosa che però le volevo chiedere ha retarguito il ministro l'ex ministro Salvini sull'uso della mascherina visto che insomma lì in Lombardia Salvini che da quelle parti viene dovrebbe saperlo che l'uso della mascherina è piuttosto determinante lei è vero che è di Forza Italia e non è della Lega ma insomma la domanda politica è stato un passo falso quello di Matteo Salvini di dire in più occasioni la mascherina non serve io non redarguisco nessuno da liberale ci mancherebbe liberale ma assessore alla salute però della regione da assessore alla salute dico che la mascherina è assolutamente importante noi oggi in Lombardia visto anche la situazione epidemiologica riteniamo che all'aperto possa essere voglio dire tolta quando si è distanti da altri quindi un allentamento leggero per la situazione migliore che viviamo e per voglio dire il caldo che c'è però la mascherina è così come il distanziamento sono gli strumenti che dal primo di settembre in poi ci dovranno accompagnare in maniera molto puntuale per evitare appunto una recrudescenza vera del virus o per tentare di scongiurarla allora Stefano vediamo il video brevissimo di Salvini con il bambino pochi giorni fa l'invito a togliersi la mascherina e poi il cambioline in un tweet la tua analisi secondo te perché Salvini ha cambiato così precipitosamente linea stai attento Filippo che c'ho già tre processi non mettermi nei guai ulteriormente come è andata la didattica a distanza no ma se andista poi toglia la mascherina se vuoi se ritieni no ma forse un attimo mi piace molto questa mascherina perché è Veneta e io sono Veneto quindi il bambino si è rifiutato di toglierla e Salvini ha fatto un passo indietro Stefano Zurlo è una svolta politica o solo sanitaria? Beh no come tutte le mosse di Salvini e di gran parte dei politici italiani è una mossa politica prima prevale l'istinto poi qualcuno gli ha detto queste cose non si possono dire non si fanno e si è corretto anche perché vale il discorso che diceva prima Gallera che pur tra difficoltà mugugni e altro gli italiani si sono mostrati abbastanza disciplinati anzi aggiungiamo che la confusione iniziale dovuta in gran parte non a Gallera ma al governo di Roma che raccoglie applausi ma che all'inizio e devo dire con i capi della protezione civile non solo all'inizio sulle mascherine ha detto tutto il contrario di tutto il contrario del contrario di tutto ha favorito il caos e quando si è capito che la mascherina ha una qualche utilità poi c'è Galli se si ricollega ce lo spiegherà ancora a lui meglio ma una qualche utilità gli italiani si sono buttati perché hanno detto se è utile perché no se mi permette di uscire di casa e di lavorare la mascherina è fondamentale io credo che Salvini come sempre cerchi di interpretare col suo istinto spesso ci prende ma qualche volta no gli umori del paese che lui ritiene ogni tanto siano troppo ingessati da regole io immagino che lui abbia in mente tutte le regole le leggi di PCM le FAQ e quindi lui quando dice no alla mascherina è un no ovviamente per interposta FAQ scusate il giochino a Conte a tutte le procedure alle regole che ha dato l'E-mail che poi sono state in parte disapplicate ricordate le linee guida che ci hanno tormentato tra maggio e giugno poi però si è accorto gli hanno detto guarda che non funziona certo Francesca Nave e poi torniamo anche da Tony Amastroboli a Berlino è molto interessante questo punto di vista che ci dà Zurlo mi verrebbe da citare il Manzoni quando diceva il buon senso c'era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune e su questo Salvini davvero come dire c'ha un certo fiuto cioè ha capito perché ha un fiuto importante poi non so se sia giusto o meno però ha percepito che insomma per gli italiani questa cosa qui comincia a diventare un problema il lockdown lo abbiamo sofferto tutti certo abbiamo visto i risultati ma come dire la voglia di libertà deve prevalere su tutto e questo questo clima lo ha annusato il leader della Liga e ha provato a cavalcarlo Francesca Nava sì dovrebbe farsi anche un giro probabilmente a Bergamo visto che lui è lombardo perché a Bergamo diciamo questo clima ancora oggi non si respira a Bergamo indossano tutti quanti la mascherina e Bergamo è una città estremamente provata da questo diciamo da questa emergenza coronavirus e quello che sto notando è un pericoloso anche clima di rimozione a me fa molto piacere che anche il governo oggi si compiaccia della diciamo del plauso della stampa internazionale per la gestione della pandemia trovo estremamente drammatico che l'assessore al welfare Gallera si compiaccia lui stesso della gestione dell'emergenza in Lombardia cioè una regione che ha avuto il record mondiale di morti per milioni di abitanti ricordiamo che dati di fine giugno parliamo di 1663 decessi per milioni di abitanti cioè il doppio diciamo del paese che è stato più colpito anche in Europa che è il Belgio che ha invece 880 decessi per milioni di abitanti ecco quello che è successo in Lombardia non può essere dimenticato e non può diciamo passare in cavalleria passatemi il termine semplicemente per un articolo che applaude alla gestione del coronavirus è ovvio che oggi c'è una grande voglia di ripartenza c'è una grande voglia di ripartire però quello che è successo in Lombardia è qualcosa che non può essere rimosso ci sono ad oggi 27 fascicoli aperti quindi inchieste di diverse procure lombarde e in particolare c'è la procura di Bergamo che sta indagando con l'ipotesi di reato di omicidio ed epidemia colposa per la mancata zona rossa di Alzano e Nembro e per la mancata chiusura dell'ospedale di Alzano Lombardo qualcosa per cui la regione Lombardia è direttamente responsabile quindi al di là di quello che è stato poi il gioco dello scaricabarile tra governo e regione parliamo di responsabilità molto precise rispetto diciamo a delle negligenze su cui la magistratura sta indagando quindi mi fa piacere la voglia di ripartire allora sicuramente sono temi su cui c'è grande polemica su cui ancora non è chiusa la discussione però diamo modo all'assessore Galera di rispondere di replicare se vuole a questo jacuzzi che la Nava anche con inchieste sul territorio soprattutto sulla vicenda di Alzano Lombardo porta avanti da mesi ma guardi a voi avete mandato una schermata prima della indagine di siero prevalenza fatta dal governo in cui si evidenzia ancora una volta così come hanno fatto non i giornalisti d'attacco ma voglio dire gli scienziati che sono quelli che poi fanno le valutazioni vere oggettive che in Lombardia è scoppiata una bomba atomica qui e non altrove fortunatamente per il resto d'Italia e qui c'è stato un sistema che ha avuto la capacità di reggere e di salvare la vita al maggior numero di persone e con le misure che abbiamo preso io mi compiacevo nella drammaticità dei momenti che abbiamo vissuto e della sofferenza per ogni persona che ahimè non c'è più e per coloro che hanno voglio dire negli ospedali vissuto un momento difficile scusi Gallera mentre lei parla intanto abbiamo visto se no sembriamo lunari delle immagini che ci arrivano direttamente da Genova dove tra poco non so se ha già parlato o parlerà ce lo dirà Sapino c'è Matteo Salvini che a differenza di quello che avevamo detto prima in realtà ha fatto una marcia indietro per cui è munitissimo di mascherina con il gagliardetto della città ovviamente con l'icona della città come giusto che sia però le immagini ci arrivano in diretta da lì vediamo se anche Luca Sappino poi torniamo subito da Gallera ovviamente è appena arrivato ci collegheremo allora è appena arrivato sono le 22.09 siamo in diretta sta per salire forse sul palco selfie vai a tutto schermo regia grazie selfie come da tradizione Sappino ci sei? Luca? allora sì Davide Salvini è arrivato lui indossava la mascherina è arrivato da pochi secondi farà subito il suo intervento siamo qua allo stabilimento di Genova lui indossava la mascherina devo dirti che del pubblico non tutti diciamo una mascherina su tre a voler essere abbastanza generosi adesso sta per parlare abbiamo un attimo un problema lo dico per chi sta a casa non è il vostro televisore ma giustamente siccome è in diretta il nostro operatore si sta leggermente sistemando in tempi la benissima grazie toglie l'audio ricolleghiamoci appena inizia a parlare direi e scusate diamo modo a Gallera di finire e lo abbiamo interrotto prego Gallera qui dicevo qui lo dicono gli scienziati qua è scoppiata la bomba atomica qui abbiamo avuto il cratere e questo lo dico con sofferenza per le tante persone che non ci sono più e per coloro che hanno sofferto qui il sistema ha avuto la capacità però di offrire speranza di vita e di salvare migliaia di persone e le misure che abbiamo adottato di questo mi compiacevo hanno impedito che tutto questo si diffondesse nel mondo una ricerca dell'università vita e salute evidenzia che sulle grandi aree metropolitane New York Madrid Bruxelles Milano Lombardia quindi da 10 milioni di persone in Lombardia abbiamo avuto una capacità di reagire e il numero quindi anche dei contagiati e dei morti è stato inferiore rispetto agli altri questi sono i dati oggettivi che ci sono stati dopodiché è chiaro che quello che ci ha preso un virus alle spalle nessuno lo conosceva ancora oggi non abbiamo una cura non c'è un vaccino siamo stati in grado in maniera tempestiva di reagire molto chiaro adesso che lo conosciamo siamo più pronti evidentemente questi però sono i dati oggettivi la magistratura e gli scienziati faranno il loro corso e come sta evidenziando anche c'è stata rispetto all'RSA il Pio Albergo Tribuzzi una commissione che ha approfondito ed è arrivata un'evidenza la fermo solo un secondo perché sono tante argomentazioni insieme Francesca Nanna scuoteva la testa perché cosa contesta Francesca nella teoria di Gallera della bomba atomica del primo approccio del virus e quindi della incapacità di affrontare perché non si conoscevano tutti gli elementi non è stata una bomba atomica non è stato uno tsunami imprevedibile e imprevisto già a partire dal 20 febbraio una task force lombarda di epidemiologi virologi infettivologi e Gallera lo sa bene ha incominciato a mappare il territorio della Lombardia e già al 28 di febbraio avevano trovato 530 positivi già usciti dalla zona di Codogno tutti questi dati venivano comunicati alla regione Lombardia all'8 di marzo i positivi erano 5.830 la domanda è com'è possibile avendo già questi dati in mano aspettare fino all'8 di marzo per fare non una zona rossa una zona arancione dati Istat rapporto annuale dell'Istat certifica il nesto tra mobilità per pendolarismo e incremento di mortalità e dove sono le zone dove si è avuto il più alto incremento di mortalità sono quelle zone della Val Brembana e della Val Cesariana dove non si sono chiuse le fabbriche e dove la gente ha continuato a circolare quindi c'è stato un alto pendolarismo i lavoratori sono stati mandati a morire sono stati veicolo di contagio e il vero lockdown è arrivato solo il 22 di marzo con il DPCM qui d'Italia e lei dottor Gallera lo sa perfettamente questo voi avevate i dati perché lei mi deve spiegare come mai il 20 di febbraio con il paziente 1 di Codogno con il primo la prima vittima a voi Uganeo dove viene chiuso l'ospedale di schiavonia viene sanificato le persone vengono messe in fila per essere tamponate la stessa cosa viene fatta a Codogno il pronto soccorso di Codogno rimane chiuso 105 giorni l'ospedale di Alzano è rimasto chiuso per 3 ore le persone non sono state tamponate sa perché non sono state tamponate glielo dico io perché non sono state tamponate perché non avevate i tamponi non c'erano i tamponi c'erano 10 tamponi dentro all'ospedale di Alzano Lombardo quindi le persone sono state mandate a casa sono diventate veicolo di contagio e voi non avete lanciato l'allarme alla popolazione invece di dire delle cose che non sono vere invece di dire delle cose che non sono vere andiamo Gallera allora poi zurlo i mastroboni però ormai guardi queste cose le avete dette ridette sono state costantemente smentite da tutti quindi smettiamola di dire delle stupidaggine da tutti chi mi scusi Gallera mi porti le testimonianze di propaganda con delle stupidaggine non vere se vogliamo parlare seriamente delle cose se ne parla se il suo scopo è quello di ripetere un ritornello rotto a cui ormai voglio dire neanche più i giornali ci danno attenzione con tutto guardi il rispetto di quello che è capitato e che è successo ha detto giustamente voglio dire i percorsi fatti e i dpcm cioè la regione Lombardia è stata la prima regione dopo poche ore dal primo caso a chiedere l'intervento di chiusura di una zona che è stata la zona di Codoglio di 60.000 abitanti altro che voi Euganeo che aveva 3.000 abitanti noi abbiamo fatto nelle case centinaia e centinaia di tamponi a tutti i cittadini della zona rossa di Codoglio perché quello è stato il focolaio che fino al primo di marzo emergeva come il focolaio vero e presente nella nostra regione i dati che porta lei non sono i dati che emergevano nei giorni cioè i dati dei tamponi ma sono i dati di inizio sintomi e il fatto che lei confonda l'inizio sintomi con la data del tampone dimostra voglio dire la strumentalità delle sue argomentazioni quindi noi abbiamo fatto che erano già usciti da Codoglio deve far parlare se no voglio dire se il suo tema è recitare una storiella allora con tutto il rispetto a quello che è successo che è gravissimo in quelle zone e che noi noi abbiamo cercato di gestire al meglio in quei momenti no? facendo ciò che 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 ci veniva consigliato e ciò che ci sembrava giusto dovendo decidere in pochi minuti per salvare le vite delle persone l'ospedale di Codoglio è stato riaperto dopo poche ore pochi giorni per continuare a offrire c'era un punto di primo intervento c'era una medicina c'era una chirurgia perché gli ospedali servono a curare le persone assolutamente così è stato per Seriate così è stato per Alzano così è stato per Bergamo per Brescia perché se avessimo chiuso secondo le sue teorie tutti gli ospedali della Lombardia la gente sarebbe morta per strada in casa invece è stata salvata negli ospedali perché aveva carenza di ossigeno questo è quello che noi abbiamo fatto in questa regione improvvisamente migliaia di persone avevano dei bisogni acuti e noi abbiamo trasformato da 800 a 1800 i posti letto di terapia intensiva giusto per carità ritorniamo anche all'oggi visto che c'è da una parte un'inchiesta giudiziaria che avrà un suo corso e che ci darà una verità giudiziaria e dall'altra ci sono le inchieste giornalistiche che legittimamente per fortuna continuano a scavare e a tirar fuori quello che c'è da sapere e da capire ma Zurlo per ritornare all'oggi tu senti che in questo momento anche in Lombardia c'è un momento come dire di rilassatezza rispetto alla situazione generale o c'è ancora una vera forte consapevolezza di quello che non solo c'è accaduto ma il fatto che come ricordava Gallera il vaccino non c'è ad oggi io credo che ci sia consapevolezza c'è un po' di disorientamento di fronte alle regole che non sono chiare perché se tu oggi prendi un tram e c'è un distanziamento se vai sul treno delle nord ce n'è un altro se andavi su Frecciarossa due giorni fa potevi andare al 100% da ieri non puoi andare magari da domani pure sugli aerei è chiaro che se le regole diventano una giostra all'italiana uno dice sapete cosa c'è boh e le frasi sono facilmente comprensibili cioè poi diventa come dire della babele delle grida manzoniane citavamo prima Manzoni non si capisce più niente ognuno si arrangia come può e si spiegano certe derive in qualche modo come nel togliersi la mascherina ostentandolo come abbiamo visto allora giriamo subito Zurlo questa cosa dei treni a Gallera perché hai ragione però scusa una cosa però no scusa solo una cosa però sì però una cosa per finire volevo solo dire due flash rapidissimi volevo ricordare a Nava punto primo che fino a prova contraria senza aprire altre polemiche la zona rossa non arancione di Bergamo secondo la procura di Bergamo indagine in corso doveva farla il governo e non Gallera poi c'è tutta la polemica ma non mi interessa secondo punto scusami no no un attimo sì va bene un attimo quello che ha detto il secondo punto che è più importante ricordo a tutti perché se no non si capisce niente che secondo me la regione Lombardia ha fatto una serie di errori che però sono figli di una politica nazionale sbagliata totalmente sbagliata all'inizio e la riprova è che quando in Veneto facevano i tamponi alla comunità cinese a febbraio a Crisanti che era il virologo di riferimento che poi tutti hanno esaltato gli è arrivata la nota di dire se continua a fare i tamponi ti becchi il danno era reale allora è tornato fra noi il professor Galli credo siamo contenti ebbè era ricercatissimo ma è con noi allora vediamo i cartelli e chiediamo la sua valutazione diciamo abbiamo preso tre dati per dare un po' una fotografia diversa dalla solita allora i contagiati sono sei volte di più rispetto ai casi accertati cartello 2 poi le percentuali cartello 3 7.5% in Lombardia e 0.3% in Sicilia sono un po' due estremi totalmente opposti ovviamente sulla mortalità poi il cartello 4 gli asintomatici sono il grande enigma che rende anche più difficile fermare questa epidemia il 27.3% 1 su 4 è anche forse qualcosa di più dei contagiati allora con questi numeri con queste cifre che fotografia abbiamo dell'evoluzione del virus professore innanzitutto di nuovo buonasera sono lieto di essere con voi dopo una lunga e travagliata come dire battaglia con Skype detto questo ha vinto l'uomo direi che questi dati li trovo estremamente importanti ed interessanti anche se purtroppo non tutti gli italiani interpellati hanno risposto il che ci ha tolto un po' di mordente ad un dato che comunque rimane secondo me importantissimo inoltre mi sento molto confortato per l'assoluta corrispondenza dei dati così come li vediamo in questo momento in queste tabelle con i risultati dei lavori nostri nel senso che se andiamo a prendere ad esempio il dato senza andare lontano dell'azienda tramviaria municipale di Milano scopriamo che abbiamo avuto il 7.7% di prevalenza giusto tra i 1.800 tramvieri lei mi dirà tramvieri conduttori di mezzi di superficie lei mi dirà che senso ha fare questo tipo di accostamenti bene il dato corrisponde piuttosto bene all'area della Lombardia non maggiormente colpita e su queste questioni abbiamo degli elementi interessanti e quindi della Lombardia presa in toto così come ad esempio possiamo dire che in alcuni dei comuni meno colpiti che abbiamo potuto esaminare dove abbiamo il 4-5% di prevalenza ci rendiamo conto del perché ci sono queste differenze rispetto al 22-23% di Castiglione e Dada che è uno dei comuni della prima zona rossa sugli asintomatici se devo dirla tutta anche lì il dato è assolutamente corrispondente io sono convinto in me che almeno il 30% quindi forse ancora un po' di più delle persone che sono state colpite da questa infezione sono state colpite senza accorgersene anche in una situazione in cui uno dice vabbè le persone si dimenticano di quello che hanno mangiato due giorni prima figuriamoci se ricordano i sintomi sfumati beh devo dire che in quei giorni l'attenzione era quasi spasmodica anche ai sintomi sfumati quindi francamente quando le persone ti dicono ma io non ho avuto niente nonostante mi interrogassi perché quello che ti rispondono quando fai questo genere di questionari in continuazione nel timore di presentare un qualsiasi sintomo ci puoi credere per cui un terzo delle persone dal 27-28 al 33% delle persone che hanno contratto questa infezione non hanno avuto nessun sintomo inoltre le persone che hanno avuto l'infezione sono un numero importante avevamo più volte in tanti detto che dovevano essere parecchie volte di più in Lombardia almeno 10 volte di più di quelli accertati mediante test quelli che si erano infettati e questi dati confermano esattamente forse per difetto questo tipo di ipotesi e danno una dignità scientifica e confermano i dati degli studi numericamente minori che sono stati fatti sul territorio però resta il fatto che uno su quattro uno su tre di quelli che si infettano sono completamente asintomatici e tra di loro ci sono anche i cosiddetti o almeno una parte dei cosiddetti super diffusori il che ci dice che la prudenza è d'obbligo proprio perché persino senza nemmeno sospettare di essere stati malati alcuni di coloro che contribuiscono alla diffusione dell'infezione si ritrovano a circolare con l'infezione addosso non lo sanno e la possono guardate la fila dei selfie intanto da Salvini è veramente industrializzata passano tutti vabbè questo non inizia sempre a fare polemica c'è una lunga fila di persone tac selfie professor Galli tac selfie tutto benissimo tutto tranquillo va bene? usiamo Galli mi esenti dal commentare questa cosa no no è che mi esenti non faccia finta che cade la linea Skype caro professore mandiamo a metà schermo il fordismo dei selfie di Salvini che si chiama fordismo il fordismo e dall'altra parte il professor Galli professor Galli mi commenti questa scena è un abbinamento che avrei volentieri evitato ecco professore siamo cattivi qui eccolo qua bella foto vede tac via altra Galli prego via un'altra però qualcuno ha la mascherina qualcuno ce l'ha ma non in bocca scherzi a parte non è un buon esempio è sbagliato ma per capire davvero non per far polemica non lo so non è facile dire che sia un buon esempio dopo tutto quello che abbiamo detto ultimamente le nuove infezioni documentate hanno avuto un calo dell'età media calo dell'età media che viene dato dal fatto che di solito le persone in età come il sottoscritto anche più anziane si guardano bene di finire in situazioni come queste mentre forse quelle un po' più giovani o un po' meno sensibili a determinati argomenti hanno meno attenzione nel non stare in situazioni di diciamo aggregazione spiccata ecco qua posso dire doppio senso è chiaro che queste sono persone contente gioiose mi fa piacere per loro ma se dovessi dire che questa cosa è una cosa che è permeata di sicurezza per loro stessi e per tutti quelli che stanno attorno francamente mi viene difficile dirlo va bene ma questo è un po' visto che proprio tutto avviene sopra il simbolo di un partito politico sembra che io voglia dire qualcosa contro se fosse qualsiasi simbolo lì sotto direi la stessa cosa no ma non è per lui lo dico io la domanda mi sembrava ovvia perché avendo lei non era contro era per commentare con lei da tecnico da tecnico quello che avviene figuriamoci Francesca Nava su questo e poi tutti gli altri ospiti sì il tema degli asintomatici tra l'altro come diceva anche Galli è un tema estremamente estremamente importante e non voglio ritornare ancora sul punto pure il bambino scusa vediamo questo selfie ecco madre figlio e creatura ecco prego scusa Francesca prego bacio bacio al bambino sul ciucciotto a lei vai sono abbastanza sono abbastanza allibita questo non è sul ciucciotto vabbè sono abbastanza allibita da questa da questa scena e credo che i politici innanzitutto debbano ricordarsi la responsabilità che hanno non solo nel comunicare ma anche nel commettere diciamo delle azioni e dei gesti di questo tipo perché ovviamente vengono presi ad esempio si è detto e si è parlato molto anche dei bambini che non sono particolarmente suscettibili al contagio però diciamo che vedere Salvini che dà baci in pubblico la cosa più interessante forse lo stai vedendo perché ti dà però l'idea anche del comportamento umano c'è stato un bacio con la mascherina tirata giù va bene adesso non facciamo tutto il replay stai facendo la moviola no ma è interessante perché ti dà l'idea del comportamento umano cioè ci sono tre tipi uno c'è quello che porta la mascherina due c'è quello che la mascherina non la porta tre c'è il terzo tipo perché dentro ci siamo tutti noi dentro c'è il terzo tipo che è invece il militante il ragazzo il signore che ha la mascherina poi ce l'ha tirata giù e bacia tutto qua sono tre tre modelli diciamo così di persone che affrontano la questione ecco tutto qua non c'è nessuno abbiamo interrotto Francesco è un campione perfettamente rappresentato diciamo esatto dei comportamenti degli italiani però io credo che i politici debbano debbano avere un grande senso di responsabilità quando fanno queste cose in pubblico e quando parlano perché ricordiamo molto bene tutto il clima di sottovalutazione che c'è stato all'inizio della pandemia che poi ha avuto un effetto diretto anche sulla popolazione che a sua volta ha sottovalutato ma perché c'era una comunicazione schizofrenica io non vorrei che ricadessimo nello stesso errore in questa fase 2 fase 3 con atteggiamenti di questo tipo che vanno esattamente in senso contrario rispetto a quello che è comunque la scienza gli scienziati ci stanno dicendo allora Gallera il bacio con la mascherina però vale tutto secondo me il bacio è un bacio con la mascherina ma sta rischiando anche lui se c'è un rischio sta correndo anche lui per la passione politica Gallera che ne pensa perché tarrabbe ma guardi fare la campagna elettronica nel tempo del covid dopodiché all'aperto in alcune regioni è anche consentito si è parlato di sottovalutazione allora ricordiamo siccome ho sentito dire prima 7-8 marzo che i primi di marzo i sindaci di Bergamo la zona epicentro delle riflessioni della signora Nava il sindaco di Milano facevano i video Milano non si ferma Bergamo non si ferma i sindaci di Alzano di Albino di Nembro dicevano guai fare zone rosse e noi e il presidente Fontana è stato tacciato di razzismo quando a gennaio ha detto attenzione facciamo fare la quarantena ai bambini che rientrano dalla Cina e quando intorno a fine febbraio ha messo la mascherina è stato deriso dal mondo perché metteva la mascherina oggi siamo qua a dire esattamente il contrario si parlava di leader di partito ma insomma vogliamo commentare il leader del più grande partito di governo che è andato a Milano contro il presidente della regione contro l'assessore Gallera che dicevano prudenza a bere gli spritz a dire che eravamo degli irresponsabili che gettavamo così terrore nella cittadinanza e poi si è preso il covid queste cose magari le diciamo e quindi sottolineiamo che al di là di altri leader ci sono anche questi quindi diciamo che il tema covid ha preso un po' alla sprovvista dai virologi che hanno detto tutto il contrario di tutti in questi mesi alle organizzazioni perché vuol dire Borrelli ha detto che la mascherina non andava usata che lui a volte la usava solo per in qualche modo per compiacenza nei confronti di coloro che erano nei loro uffici però oggi Gallera viviamo oggi ormai a mesi di distanza viviamo in una fase in cui abbiamo capito che il distanziamento serve lavarsi le mani pure meno baci si danno a persone non congiunte meglio è e la mascherina serve tutto il dibattito che lei fa è vero ma vale per qualche mese fa oggi ormai sono cose che Tomia Mastrobuoni su questa sequenza del selfie un commento sempre con l'occhio tedesco il fordismo no no volevo dire anche sta durando più la fase selfie del comizio ti faccio notare non so se in Germania è un segno di apprezzamento dei cittadini il problema è questo noi abbiamo noi sappiamo e se ci fosse un economista ci direbbe immediatamente che una seconda un dato un secondo problema nessuno se lo può permettere non se lo può permettere l'Italia non se lo può permettere la Germania non se lo può permettere nessuno quindi questa è una fase particolarmente delicata perché se adesso riparte un contatto serio se riparte l'epidemia come partita quest'inverno noi siamo in una sessione tragica perché non possiamo probabilmente permetterci di nuovo di chiudere tutto perché falliremmo e quindi in questa fase anzi sarebbe diciamo opportuno una cautela un atteggiamento ancora più cauto ancora più attento e soprattutto da parte dei politici come dicevo prima c'è totalmente irresponsabile dare un esempio del genere c'è i selfie senza mascherina invitare un bambino a togliere la mascherina cioè quello è un leader politico è tutto importante è una norma del governo che la mascherina ha usata solo nei luoghi chiusi io non so di cosa stiamo parlando c'è una indica un'ordinanza del governo che dice che la mascherina si usa nei luoghi chiusi adesso criminalizziamo la politica che la usa nei luoghi ma diciamogli che forse le misure che ha stato tanto sono poco responsabile di Lombardia abbiamo anche previsto di fermi che non si sente non si sente non si sente il distanziamento sociale ripeto quello è una distanza alla quale ci si può contagiare converranno su questo ecco converrà su questo neanche su questo grazie allora Galli 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 poi torniamo da Gallera Galli ditemi no non volevamo è all'aperto questa scena no ma ripeto potrebbe essere questo diminuisce il rischio di contagio sapete chi senza voler fare il menagramo in tutta questa storia corre un bel rischio chi lui Salvini è questo il punto sì cioè mi sembra va bene un atteggiamento un po' come dire superomistico va bene gli va bene così non è un bel esempio indubbiamente però è un dato di fatto cioè si è sbaciucchiato e baciato non so quante persone se vuole arrivare a dimostrare in questo modo che l'infezione non c'è più è uno sperimentatore diretto in uno studio che non potremmo fare in doppio cieco controllato insomma allora guardate io Galli professore davvero mai avrei voluto tirarla dentro questa polemica e infatti non voglio parlare di polemica abbiamo semplicemente usato una cosa che sta accadendo in diretta e uno dei massimi esperti quello che noi riteniamo uno dei massimi esperti in materia di malattie infettive che ce l'abbiamo in diretta e ci siamo trovati così per caso a dover commentare una situazione una cosa possiamo anche mandare un messaggio a chi ci ascolta cioè a chi sta in un luogo pubblico allora lasciamo stare Salvini continuiamo a vederlo mentre fa quello che deve fare è un leader politico e si assume le sue responsabilità però professor Galli se uno si trova in un luogo pubblico e si trova di fronte Luca Telese e non è un parente di Luca Telese e lo vuole baciare non so per quale assurdo motivo non so per quale assurdo motivo ma lo può baciare o non lo può baciare? no non lo può baciare in linea di massima è altamente sconsigliabile non tanto baciare Telese però utilizzare effusioni a noi italiani molto care ma in questo momento sostanzialmente non indispensabili in una situazione in cui ancora abbiamo questo problema che circola voglio dire dopodiché ragazzi miei siamo in un periodo estivo abbiamo i giovani che scalpitano magari anche con gli ormoni a mille e dobbiamo tener conto di tutta una serie di realtà che ci dobbiamo in qualche modo aspettare nessuno è nato ieri e nessuno pensa che semplicemente facendo quello che prescrive in negativo tutta una serie di cose che non andrebbero fatte ecco che questo implichi ad avere un immediato successo però qual è il risultato? Per fortuna i casi non sono molti e in Italia i focolai osservati sono stati tutti quanti fino adesso contenuti ma il concetto è che abbiamo l'età media delle nuove infezioni che si è abbassata semplicemente perché probabilmente insomma la mia amata zia ultranovantenne non va a baciare Salvini in questo tipo di situazioni voglio dire o comunque non in situazioni dove ci sono fattori di rischio per cui le persone decisamente anziane hanno capito che la prudenza è veramente fondamentale e questo ci aiuta ecco aspetta qualcuno che ci lascia ancora le penne ce le lascia per altri motivi 4 comizi al numero che sappiamo chiuso però guarda professore guardate 400 persone sono 1600 contatti allora dicevamo prima teniamolo in diretta perché il bello della televisione in diretta è questo che dobbiamo raccontare la cosa interessante in questa sfilata umana ma davvero senza alcuna ironia prima c'era una persona anziana che teneva la mascherina aveva la mascherina ma questo lo dico veramente con affetto rispetto a quello che stiamo vedendo aveva la mascherina se lei era tirata giù per parlare con il leader della Lega e mentre gli parlava gli stava vicino allora in questo secondo me non c'è colpa non c'è dolo c'è la distrazione che ognuno di noi può avere però è singolo ecco questo manco c'è la mascherina e a lei questo signore neanche scambio del telefono selfino dov'è Galli voglio Galli per commentare questa roba qua e poi c'è l'anziano che se questa qui c'ha la mascherina messa così questa per esempio è la mascherina non ce l'ha ce l'ha ce l'ha ma io non ho capito Galli può dire lei qualcosa telese o no perché io di questi qui non ne vedo uno diciamo come dire non dico regolare ma con un minimo di senso no? cioè tu puoi avere la mascherina mentre parli con uno che non è un tuo congiunto te la tiri giù allora quanto parli con uno che non è un tuo congiunto e per congiunto in questo caso uno deve considerare uno che vive con te devi avere o un distanziamento accettabile o altrimenti la mascherina tenendo conto che vi ricordo che la mascherina chirurgica protegge gli altri da te stesso meno te stesso dagli altri quando sei in una condizione soprattutto di vicinanza molto stretta noi non usiamo la chirurgica ma usiamo quelle di classe superiore aspetta professore quando siamo in ospedale questo è grandioso questo signore qui è grandioso perché per fare la foto si toglie si toglie la mascherina quindi ce l'aveva fa la foto vuole stare nel selfie e sentite che cosa dice telese no sto spiegando questo fenomeno telese sta spiegando questa signorina invece giustamente cosa fa si tiene la mascherina ma tiene la sua testa bianco a Salvini allora Zurlo ecco qua parla sopra che stiamo analizzando è semplicemente un caso sociologico questa trasmissione è una trasmissione sociologica in questo momento cerchiamo di capire i comportamenti degli italiani mi sembra mi sembra questo è uno che si è un colore con Salvini quindi c'è quel discorso fatto prima però mi sembra che Salvini continui a fare Salvini abbia voglia di fare Salvini come sempre stato evidentemente non c'è un Salvini 2.0 aggiornato ai tempi semmai c'è un Salvini come abbiamo detto che ama ama il contatto fisico al caso di dirlo con la folla e che cerca i bagni di folla e che da questo punto di vista come ha detto Galli si assume i suoi rischi e è convinto che le cose possano andare avanti in questo modo io credo che evidentemente lui non abbia fatto un come posso dire un aggiornamento del personaggio Salvini che sarebbe stato anche interessante di questi tempi visto quello che è successo ma interpreta un po' quest'idea appunto del selfie come liberazione da come festa e quindi come abbassamento della mascherina sono finiti ora Nava stiamo insistendo su un dettaglio Nava ripeto questo trattiamolo non come anche per chi ci ascolta nessuna aggressione alla Lega né tantomeno trattiamolo visto che è una cosa che è avvenuta in diretta che abbiamo notato e che quindi vi stiamo raccontando trattiamolo come un caso che ci racconta del carattere di noi italiani lì dentro dentro queste immagini in diretta c'è tutto un pezzo della nostra della nostra Italia indipendentemente da chi Poi bisogna vedere anche cosa fanno gli altri politici in campagna elettorale non è escluso che anche altri all'aperto deroghino la mascherina Ma per carità ma ci mancherebbe altro Ma infatti mi chiedo se il New York Times oltre ad elogiare il governo italiano per come ha gestito la fase 1 mostrerà anche queste immagini diciamo sulla fase 2 come buon esempio da seguire Ricordiamoci che Salvini è colui che disse in piena pandemia con i carri militari che se ne andavano da Bergamo con i feretri dei miei concittadini disse lasciamo che intanto le persone muoiano e poi faremo le indagini quindi diciamo parliamo di questa roba qui per cui oggi non mi stupisce questo credo che rappresenti diciamo un po' anche il carattere di molti italiani soprattutto di chi non ha avuto morti e persone che si sono ammalate Francesca c'è un'ultima cosa che devi dire si è spesso detto le critiche anche molto dure alla regione Lombardia all'assessore al presidente nascondono un sentimento anti-Lombardo tu da Bergamasca come concili diciamo queste accuse con il tuo lavoro? io parlo per me stessa io sono Bergamasca sono Lombarda ho anche degli imprenditori nella mia famiglia non ho nessun problema a raccontarlo a dirlo ho vissuto in prima persona quello che è successo a Bergamo e diciamo sono nata cresciuta e ho studiato ho fatto l'università fino quindi ai 25 anni ho vissuto in Lombardia per cui conosco perfettamente anche l'eccellenza della mia regione grazie Francesca non c'è un sentimento anti-Lombardo affatto grazie a tutti gli ospiti grazie all'assessore Gallera dopo la pubblicità torniamo grazie a professor Galli grazie a Stefano Zurlo attenzione perché ve lo facciamo già vedere uno dei più grandi intellettuali europei sta per entrare in questa trasmissione si tratta di Bernard Henry Lévy ve l'abbiamo eccolo qua lo salutiamo buonsoir con lui ci sarà Furio Colombo e vediamo intanto Matteo Salvini che con il nostro Luca Furio Colombo vedete Ligio a casa addirittura con la mascherina a casa con la mascherina e vediamo invece il nostro Sappino con Matteo Salvini ma noi andiamo rapidamente in pubblicità e poi torniamo il virus che rende folli l'ultimo pamphlet di Bernard Henry Lévy a tra poco e allora 22.59 buonasera al pubblico di Inonda grande ospite con noi collegato in diretta da Parigi il professor Bernard Henry Lévy bonsoir professore benvenuto autore del pamphlet il virus che rende folli edito in Italia dalla nave di Teseo Furio Colombo buonasera e benvenuto e il vice colonna del giornalismo italiano Davide senza ombra di dubbio e il vice direttore della verità Francesco Borgonovo buonasera Borgonovo allora grazie grazie per essere con noi allora le ultime notizie professor Levici arrivano direttamente dal Libano come lei ha visto essendo lei anche un grande conoscitore dei fatti del Medio Oriente 70 morti 3700 feriti dice l'agenzia AGI allora prima di entrare nel merito del suo libro del virus che rende folli un brevissimo commento da lei sulla particolarità del Libano in particolare di Beirut un teatro di guerra nel quale si scontrano diverse diverse situazioni professor Levici che idea si è fatto lei sentite io credo che il minimo della decenza sia di non avere un'idea né un'ipotesi io penso che invece bisogna piangere i morti pregare perché i feriti se la cavino e ammirare ancora una volta la tremenda e incredibile resilienza di questo sventurato paese non ho voglia di fare geopolitica in questo momento voi mi chiedete di quale guerra è il teatro il Libano ma quello che stiamo vedendo sui nostri schermi è atroce per il momento quello che è successo sono tonnellate di nitrato di alluminio esplose in prossimità di abitazioni civili è una catastrofe atroce e ogni trasmissione che si svolga stasera domani non deve correre il rischio di cadere nelle fake news o nelle ipotesi di cosperazione sospendiamo le ipotesi e le analisi per qualche ora è il consiglio che vi do ci sono due messaggi inquietanti che arrivano alle agenzie il primo Libano è un paese straordinario che ha talmente sofferto sofferto a un tale punto e con una popolazione così straordinariamente esemplare questo è quanto io vorrei dire questa sera questo piccolo paese che è piccolo come la regione dell'Ile de France o come una regione italiana ha resistito a tal punto a tante di quelle cose e ha subito tante calamità che è un paese martire il Libano e questa sera io porto il lutto dei martiri di questo paese martire è una notazione che sottoscriviamo senza nessuna esitazione Davide ci sono due agenzie che dobbiamo dare che ci fanno pensare e ci preoccupano la prima è un Agi una delle autorità ancora non sappiamo quale dice chi può lasci Beirut e la seconda forse ci dà un indizio ma sono veramente le prime notizie che arrivano è l'ambasciata americana che dice indossate le maschere quindi maschere antigas maschere contro qualche esalazione questo è un interrogativo che possiamo solo porre e appena avremo altre notizie ve lo daremo allora professor Bernardo Livi partiamo dal suo libro e il virus rende folli chi ha reso folle e perché il virus del covid tutti noi e anche voi giornalisti commentatori di vario tipo editorialisti come me tutti voglio dire che abbiamo ceduto al panico a un punto tale in fondo due follie sono quelle della pandemia e sono ancora con noi la prima follia è la follia di quelli che negano il virus i negazionisti del virus Donald Trump Jair Bolsonaro o altri idioti popolisti europei quella è una follia poi c'è però la follia del panico dell'eccesso di reazione la follia che ha consistito in fondo nel non vedere più altri problemi attorno a noi se non il virus il virus il virus e so bene per esempio che durante tutti questi mesi in Italia come in Francia del resto abbiamo vissuto siamo vissuti in una sorta di mondo parallelo in cui non c'erano più notizie dal mondo io se l'esplosione di Beirut si fosse verificata un mese o due fa nel cuore dell'emergenza sanitaria non so quale posto le avremmo assegnato nel momento in cui questo mondo parallelo in cui vivevamo avevamo il posto soltanto per il re corona il virus coronato il coronavirus dunque una crisi di pazzia collettiva sopraggiunta da ogni parte alla quale è finita bisognava resistere e a me sembra che si cominci oggi a resistervi e ad avere un po' più di sangue freddo di testa sulle spalle se ne sono molto contento è finita questa follia o ne siamo ancora attraversati io ho l'impressione comunque che le persone cominciano a capire che ci sono altre tragedie a parte la pandemia che è una tragedia ma ce ne sono delle altre adesso avete dedicato molto spazio alla tragedia che ha colpito oggi Beirut una vera tragedia la tragedia di tutte queste guerre i cui promotori sfruttano la situazione sanitaria per fare la guerra è ancora un'altra tragedia dunque cominciamo a capirlo tutto questo mi ricordo un giorno mi sono detto che avevamo il mondo all'incontrario perché da una parte vedevo le persone a Parigi i Paragini si godevano della bellezza di Parigi vuota dei cieli blu e lo stesso giorno ho appreso che gli incendi delle foreste amazoniche provocati dai cercatori d'oro dai nemici del clima in Brasile non facevano che intensificare noi in Europa ci sbrodolavamo sull'uccellino sul ramo la bellezza del clima che tornava i cieli puliti che tornavano e poi sotto il radar passavano i crimini contro il clima perpetrati in Amazonia voglio dire una tale sproporzione che per me è stato forse uno dei motivi che mi hanno spinto a scrivere il libro mi sembra che oggi stiamo rimettendo i piedi a terra mi sembra un po' e lo dico diciamo con la testa libera voglio dire capisco benissimo i medici i medici sono rispettabilissimi sono eroici hanno messo la propria vita in pericolo per salvare altre vite le nostre vite però stiamo capendo che sì che i medici non sono Dio che la loro parola non è parola di Vangelo stiamo capendo cioè che quello che gli epistemologi e i filosofi della scienza hanno tentato di dire fin dai primi giorni di pandemia anche i medici vanno a tentoni non posseggono loro la totalità del sapere su quello che succede bisogna ascoltare tanti altri tipi di gente quindi mi sembra che stiamo rimettendo i piedi sulla terra da qualche tempo mi sembra di sì è auspicabile e ho voluto contribuire a questo risultato questo libro non è un pamphlet è un libro di filosofia che per sommi capi pone la questione che cosa avrebbe detto Michel Foucault su questa pandemia se fosse ancora vivo che cosa direbbero i grandi storici della scienza che cosa direbbe Jacques Lacan uno dei un altro dei miei maestri lo psicanalista francese Lacan che ha spiegato che un virus è pura negatività che il virus è pura morte che un virus non ha intelligenza che cosa avrebbe detto Lacan se avesse sentito tutte le cretinate che abbiamo sentito per mesi e mesi sui messaggi che il coronavirus avrebbe da consegnarci vi ricordate? c'è ancora chi dice il virus ci sta parlando ci avverte ci ammonisce ci punisce il virus è il castigo del cielo per i crimini commessi dalla destra oppure dalla sinistra a seconda del punto di vista la punizione della terra per i crimini commessi contro il clima il grande storico della scienza Lacan psicanalista ci avrebbero detto che la prima cosa che un progressista deve sapere è che un virus non pensa un virus non parla un virus non trasmessa messaggi il virus si deve curare al limite il virus non ha una lezione da impartire all'umanità colpevole questo è il messaggio di questo mio libro ed è un messaggio filosofico in fondo il dibattito politico alla fine mi è indifferente quello che interessa a me veramente è il modo in cui la filosofia la metafisica ci consente di pensare ciò che ci sta succedendo in questi giorni grazie furio colombo molto interessante david perché è la prima volta scusa facciamo per anche un punto che in italia usciamo dal modo univocamente sanitario di leggere questo problema quindi dobbiamo ringraziare il professor Bernardo Arrive per questo spunto per questa capacità di cambiare il punto di osservazione esattamente così infatti non volevo riportarlo sul piano politico ma avendo la possibilità di avere con noi anche il grande furio colombo che Teresa giustamente ha ricordato principe degli inviati e che è grande conoscitore degli Stati Uniti la notizia di oggi però ci riporta come i sovranisti i populisti hanno gestito il virus Trump ha cambiato idea oggi ha detto caro Furio lo avrai sentito è da patrioti portare la mascherina allora questo diciamo il virus rende folli come dice Bernardo Arrive tutti noi ma in questo caso ha fatto cambiare completamente nel giro di qualche mese uno scettico come Trump che lettura ne dai Furio? La prima è di dare il benvenuto e un saluto a Bernardo Arrive e rimpiangere di non avere visto prima il suo libro nell'occasione assolutamente bella e importante di incontrarlo la seconda è che se lui vedeva la trasmissione mentre noi aspettavamo si sarà reso conto di una prova straordinaria della parte del suo libro in cui dice che il virus rende folli perché avrà visto il comportamento di Salvini e il comportamento di Salvini era il comportamento di uno che è stato reso folle dal virus e si mette a baciare sbaciucchiare prendere o lasciare l'infezione per decine e decine e decine di persone come fatto dimostrativo del suo coraggio politico è certamente una delle prove che il virus rende folli ciò che Barnardo ha detto nella prima parte è assolutamente e totalmente comprensibile il primo capito diciamo il primo padiglione dei folli è occupato da coloro che avrebbero dovuto prendersi le responsabilità e affrontare il problema di una pandemia che non è dice giustamente lui la fine del mondo ma è abbastanza importante da non fare né il Boris Johnson né il Donald Trump né il Bolsonaro e comportarsi da uomini da dirigenti civili di paesi civili che si curano dei propri cittadini questi folli sono la prima parte io suppongo e Bernardo ha detto un momento fa la prima parte del suo lavoro che mi piace molto e mi interessa molto e che quindi farò in modo di conoscere bene e di scriverne appena possibile la seconda il secondo gruppo è quello di coloro che si preoccupano troppo ed è vero è vero che esiste questa tensione che rasenta un continuo stato di drammaticità e di teatralità con la quale si fronteggia un male misterioso e invisibile ma è anche vero che la seconda parte della follia ha una grande attenuante di essere una reazione alla prima parte della follia cioè non è gratuito il fatto che tutta questa gente non è così non è un'improvvisazione e una stranezza di comportamento come lo è la follia il comportamento di coloro che hanno assunto una preoccupazione che spesso smargina nel panico e che lui ha individuato e che vede come un movimento veramente un movimento di folla che ha un'importanza enorme e non sapremo neppure in che modo si evolverà bene ti fermiamo solo un attimo è una reazione scusami scusami perdonami è una reazione a un comportamento incivile inumano stupido e provocatorio che ha reso la gente sola e disperata e questo ha portato alla seconda corsia dei folli di cui giustamente parla Bernardo Arrivevi grazie e volevo sentire Borgonovo su questo i folli sono una chiave attuale anche per capire tutto quello che sta accadendo in Italia io mi penso di Arrivevi penso che questo virus perché non parli perché ovviamente non pensi un messaggio ce l'abbia dato ce l'abbia dato sul sistema economico che ha contribuito a farlo venire fuori contribuito a causarci questi danni pensiamo al nostro sistema sanitario che è stato ridotto dal neoliberismo e dalla globalizzazione o come è stato gestito il rapporto con la Cina in questi mesi secondo me di messaggi questo virus ce ne ha dati tanti poi mi sembra che ci siamo dimenticati un aspetto nella follia cioè che i populisti brutti e cattivi di cui avete parlato finora non sono al governo in Italia al governo c'è un premier che ha giocato con questo virus come ha giustamente notato un altro grande filosofo Giorgio Agamben che ha scritto un bellissimo altro libro proprio sul virus un premier che ha giocato con lo stato di emergenza e lo ha addirittura prolungato e che a proposito di follia mi sembra avere dato parecchie prove fino adesso si è parlato di Salvini io la mascherina me la metto non mi piace quello che ho visto non mi piace portare i bambini sul palco per qualunque causa non mi piace se c'è una ci sono delle regole se bisogna tenere la mascherina e la mascherina va messa finché le regole ci sono altra cosa è avere la libertà di criticare in maniera intelligente e informata e non essere bollati come negazionisti che è una parola che ha un altro senso che forse andrebbe utilizzata per questioni più serie in Italia si è secondo me approfittata la classe politica dello stato di emergenza per fare cose decisamente sgradevoli e però quando si tratta ad esempio dei migranti improvvisamente va tutto bene sono arrivate 14.000 persone nel nostro paese molte di queste positive al virus dice il ministro Boccia non io il ministro Boccia dice uno su quattro e però questo è tutto a posto e invece per gli italiani dobbiamo stare lì a vedere quanti selfie si fa quello che poi imprudenti finché volete però ci sono tutta una serie di situazioni che passano sempre così sotto traccia così come prima diceva Parenzo è il dibattito su Zingaretti e gli altri passato ma io non credo forse ce lo dovremmo ricordare invece perché quell'atteggiamento ha contribuito a implementare l'epidemia la pandemia quando è arrivata in Lombardia sicuramente tutti hanno fatto degli errori ne ha fatto tantissimi anche la giunta a Lombarda ma io me ne ricordo i sindaci che invitavano a fare gli aperitivi io era a Milano non so voi quando c'era il weekend sì però ci dobbiamo ricordare tutti Giorgia Meloni faceva i video tutti tutti hanno detto sì però ci ricordiamo sempre una sola parte diciamo che la nostra è una follia delle volte è una follia un po' selettiva mettiamola così quella che si vede dalle nostre parti e io penso che gli italiani spero che si ricorderanno anche il modo in cui questo premio era gestito lo stato di emergenza forse Bernard da Rilevy dalla Francia non lo ha visto però noi sì e penso che approfittare di un momento di grande difficoltà e di grande stress psichico per le persone sia piuttosto grave allora professore c'è un grande dibattito in Italia la Lenne ha avuto un saggio perché ha sentito un giornalista italiano orientato a sinistra un giornalista italiano più orientato a destra e c'è un grandissimo dibattito sulla follia del virus che è entrata in conflitto con i nostri diritti costituzionali ci sono stati dei giuristi anche progressisti che hanno criticato l'operato del nostro governo e alla fine sembra veramente che sia come una grande prova per le nostre democrazie lei che cosa pensa vede anche in Francia questo rischio molto forte che si arrivi a una restrizione delle libertà che si arrivi a delle misure eccezionali che poi diventano stabili e restringono alcune libertà civili a cui ci siamo abituati senza nessuna speranza senza nessuna limitazione mi sia consentito di rispondere molto rapidamente ad alcuni dei punti citati questione degli immigranti invito l'interlocutore a verificare queste cifre e a pubblicarle quello che lei ha appena detto quello che mi ha detto Salvini qualche giorno fa in un dibattito televisivo un migrante su quattro ha il covid io spero che per voi che sia vero ma invito la SET a fare le sue opportune verifiche e a pubblicare i risultati io sono andato nel campo di Moria a Lesbos Grecia probabilmente sono stato intossicato dalle cifre dai numeri che date voi e da altri ho portato mascherine protettive per i migranti di Lesbos il cui campo è stato chiuso e trasformato in una gigantesca prigione quando è terminata la mia distribuzione di maschere ho chiesto ai numerosi medici presenti sul posto quanti casi di covid avete avuto qui a Lesbos a questa data zero siate dunque prudenti con queste cifre prudentissimi con la tentazione odierna di trasformare questi sfinturati migranti che hanno tante calamite sul gobbone numero due globalizzazione che il virus ci ha mandato il messaggio che la globalizzazione crea o ha creato la pandemia attenzione aspettate questa è una favola la globalizzazione ha tanti difetti va corretta senza altro deve essere diciamo emendata volta al vantaggio dei più deboli però dei virus ne abbiamo fin dalla peste di Atene dalla morte nera la peste nera in Europa quando la globalizzazione odierna non esisteva e se usciamo da questa pandemia più rapidamente di quanto siamo usciti da altre pandemie precedenti sarà grazie alla globalizzazione perché i laboratori entrano in competizione quindi la ricerca procede più rapidamente terzo punto l'opportunismo politico e là naturalmente lei ha ragione però malauguratamente non è riservato non è di pertinenza esclusiva di uno all'altro c'è un'epidemia di opportunismo cioè abbiamo visto responsabili leader politici di tutte le parti buttarsi addosso ai malati agli agonizzanti ai moribondi per spingere la propria agenda politica l'abbiamo visto dappertutto ve l'avevo detto abbiamo aperto troppo le frontiere c'è snuto troppo le idee progressiste liberali ve l'avevo detto la crescita è andata troppo in fretta siamo stati troppo pochi siamo stati troppo violenti nei confronti del pianeta questo si chiama opportunismo politico e mi fa schifo ipotesi premature sul Libano la prima cosa che si deve ai 35-36 mila morti italiani ai 31 mila francesi la prima cosa che dobbiamo loro è di mettere il profitto politico nell'armadio o nel cassetto intanto che dura la pandemia quarto punto questione delle libertà e dei diritti certo che c'è un patto del diavolo che si sta stringendo al quale bisogna essere molto vigili qual è il patto del diavolo è un patto per sostituire il vecchio contratto sociale con questo che io chiamo nel mio libro il contratto vitale il contratto sociale dice voi cedete parte della vostra volontà per fare la volontà generale nel patto virale di cui che alcuni sognano specie i cittadini terrorizzati è il patto che direbbe rinunciate alla libertà di andare venire spostarvi di viaggiare rinunciate alla vostra libertà di riunirvi con i familiari con gli amici alla libertà di uscire di casa e vi garantiamo la salute ecco questa sostituzione del patto medico vitale al contratto sociale va bene durante la crisi durante l'emergenza sono d'accordo con il lockdown con il confinamento ho sempre portato la maschera ma se deve diventare la nuova normalità questa se deve diventare il mondo di domani sarebbe una regressione politica morale e della civiltà molto notevole faccio l'esempio della mascherina e non parlo delle palinodie di Donald Trump che fanno ridere abbiamo la pubblicità e poi torniamo da lei subito soltanto un minuto è un tastativo teniamo allora un po' di suspense sulla mascherina perché è il punto più interessante di questo intervento e come vedete si collega con quello che abbiamo detto per tutta la serata quindi se volete sapere cosa pensa Bernard Henry Levy della mascherina aspettate qualche istante 23 23 31 siamo in chiusura mentre scorrono i titoli di coda però professor Levy per non lasciare in sospeso il suo pensiero ci stava raccontando della vicenda della mascherina prego il vero problema stavo dicendo è come per le libertà le misure d'emergenza d'accordo ma il problema è se le misure di emergenza si perdurano fino a diventare il modello della società di domani del mondo di domani per esempio la maschera la mascherina certo d'accordo durante la pandemia però un'umanità per sempre mascherata sarebbe tremendo perché il volto dell'essere umano è l'etica il rapporto con l'altro non darsi la mano durante la pandemia d'accordo va bene ma un'umanità che smette di darsi la mano è un'umanità un genere umano che rinuncia a un bel gesto di solidarietà repubblicana di fraternità è un bel gesto di uguaglianza ultimo esempio il distanziamento sociale quanto si è detto questo bisogna un distanziamento ci vuole per evitare l'infezione se è una misura d'emergenza bene se prendiamo l'abitudine di distanziarci fisicamente e socialmente scusatemi tanto ma persone come me o come Furio Colombo abbiamo passato la vita a combattere il distanziamento sociale la separazione degli esseri umani fra ricchi e poveri tra quelli che hanno o non hanno tra chi ha il potere e chi no allora attenzione perché il mondo di domani di cui stiamo parlando non deve rassomigliare al peggio del mondo del prima cioè che non sia gravato di queste misure di emergenza che diventano eterne perenni e che sia non diventi un inferno reazionario è questo che mi preoccupa che mi chiede ed è per questo che ho scritto il mio libro ed è per questo che sto tentando di suonare l'allarme con questa mia pubblicazione grazie bene siamo contenti di raccogliere questa allarme lo ricordiamo tutti facciamo la copertina il virus che rende folli ricordiamo anche il libro di Borgonovo per questa sera in onda finisce qui con questo messaggio di critica e di intelligenza noi torniamo domani noi torniamo domani ma diciamo solo che Furio Colombo che si trova a casa sua ha la mascherina per rispetto verso gli operatori che a casa sua sono mentre il professor Levi siccome è collegato via Skype da Parigi non ha altre persone strane in casa ovviamente tutti gli aggiornamenti sulla strage fra pochi istanti con il telegiornale la conferma è quello che diciamo purtroppo arriva già con l'agenzia si sono liberati dei gas tossici il presidente ha detto che è uno scandalo che per sei anni quelle tonnellate di nitrato fossero conservate nel porto allora il TG dopo di noi e noi ci vediamo domani e grazie a Marina Astrologo per la traduzione simultanea bravissima come sempre e rilevi grazie Marina buon lavoro grazie a tutti